vrn presenta border nights la notte ai confini una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge una voce può raccogliere una vita che a volte sfugge bombay blues per iniziare questa nuova puntata di border nights sarà un altro viaggio molto ricco questa sera perché come le volte in cui ci sono le conferenze di realtà allo specchio la nostra trasmissione dura leggermente di più leggermente mi sembra tanto di più è tanto tanto di più e allora siamo prontissimi per collegarci tra poco in diretta con l'associazione realtà allo specchio questa sera l'appuntamento sarà con oscar citro che avevamo già avuto ospite in passato terapeuta olistico che ora si dedica completamente alla vita spirituale dell'uomo il suo titolo dell'intervento il titolo dell'intervento sarà la medicina della nuova era tutti possono verificare immediatamente l'esattezza delle dinamiche dei conflitti causa delle proprie malattie seguendo i consigli sulla loro risoluzione operare gli accorgimenti che innescano il proprio processo di autoguarigione l'autore ha verificato più di 5.000 persone affette da patologie constatando che tutte stavano vivendo il conflitto specifico che causava la loro malattia tutti quelli che ha aiutato a risolvere il conflitto sono guariti definitivamente in tempi rapidissimi dice seppure in tanti casi la medicina ufficiale avevano definito le loro malattie inguaribili dal momento che con la risoluzione del conflitto queste guarigioni sono avvenute nel 100% dei casi senza alcuna eccezione di sorte è facile intuire che il futuro della medicina sarà influenzato dalle metodiche riportate nel suo libro speriamo che è sempre un'incognita il collegamento sapete audio con l'associazione realtà allo specchio malgrado l'impegno insomma di sabrina e di fiorenzo eccetera però è sempre così una scommessa il collegamento audio con kurtagolo in provincia di padua ci auguriamo che questa sera preghiamo il buon dio preghiamo facciamo un rito collettivo che dobbiamo fare speriamo c'è solo da sperare amici non possiamo fare altro solo sperare dopodiché sarà con noi giuseppe puppo autore del libro 80 metri di mistero la tragica morte di eduardo agnelli doveva esserci vario venturi questa sera ma poi impegnato col suo ultimo film tornerà con noi dopo il 23 allora visto che domenica gianfranco carpeova ha parlato in carpeova racconta di eduardo agnelli ho avuto così la spinta di parlare di eduardo agnelli e mi sono accorto perché non me lo ricordavo che lo facciamo proprio a ridosso del quindicesimo anniversario della sua morte precipitò da un viadotto di 80 metri il 15 novembre quindi esattamente 15 anni fa e insomma l'evento sincronico ha voluto che ce ne occupassimo proprio questa sera il giornalista giuseppe puppo ha messo in fila insomma tutte le stranezze della sua morte e con lui ricostruiremo anche il personaggio eduardo agnelli un personaggio davvero incredibile se vogliamo no per visione per interessi rispetto alla famiglia al resto della famiglia agnelli quindi sarà un momento particolarmente interessante così come sarà veramente tutta da ascoltare l'intervista di stefania che ha intervistato il giornalista d'inchiesta pietro ursatti si parla del caso spada e anche del sistema di potere goma poi stefania con pietro ursatti parlerà anche però di questa criminalizzazione nei confronti dei giornalisti che poi il cui scotto viene pagato proprio da chi magari fa un certo tipo di informazione e che però magari viene accomunato a che ne so i feltri e mentana che sono iper protetti e iper garantiti da contratti da soldi tutto quello che vogliamo poi c'è però tutta un'altra schiera di giornalisti che magari la clinica fonte è un libro che sapete quel libro che non si guadagna oppure scrive qualche pezzo sui giornali e anche lì si guadagna praticamente nulla rispetto ai rischi che che corrono di tutti i tipi quindi è un lavoraccio è veramente un lavoraccio e quindi la tematica sarà molto interessante proprio quella affrontata con pietro ursatti poi ci sarà la ruota libra con paolo franceschetti il maestro di etrologia barbara marciana insomma tanti appuntamenti adesso però è il momento colleghiamoci con Kurtagolo realtà allo specchio la conferenza di oscar citro buon ascolto ci sentiamo dopo non solo sapere le dinamiche a livello energetico dei conflitti ma si può sfruttare anche per i familiari per l'intoleranza alimentare prima di comprare un prodotto io non nascondo che nel supermercato nelle corsie io e mia moglie ci mettiamo a testare il prodotto adesso sono pazzo ma io pure quando ho un materasso quando ho un materasso testavo l'inserviente ma cosa state facendo io sto testando perché questo vedi qua tocca come fa male quella che è un materasso con le spirali con le molte però abbiamo fatto uno di ultima generazione che hanno un coperchio di plastica sopravvivente ma a testarlo ma alla fine era un compromesso tra l'ana e ladio mi ricorda che non era neanche più caro ma che era l'unico che faceva bene perché io ne metto ci devo dormire ott'ora a me non voglio dormire in un posto che mi fa bene ma io lo uso per me non ho vergogna di dirlo perché se uno ha questo strumento a disposizione perché non lo sfruttavo come faccio a sapere se un prodotto fa realmente bene io ho il dovere di dubitare di dubitare della pubblicità il bravo venditore vende il suo prodotto come il miglior al mondo ma io con il testo del chinesi foggico so se quel prodotto fa veramente bene o no ma poi per le malattie a livello fisico c'è la medicina della nuova era che è la base se non si risolve il conflitto non si va da nessuna parte ci si può solo tamponare con le varie tecniche energetiche tutte e l'arile io quando prima ancora di prendere e di specializzare nei conflitti mi ricordo la prima esperienza venne una donna con un nodulo alla tiroide di 4 cm io ne feci un po' di pranoterapia deflessologia plantare piramidologia cromopuntura quattro sedute di meno di un'ora dieci minuti di una cosa 7 minuti di cromopuntura 20 minuti di piramide quasi meno di un'ora sarò stato pure bravo bravino se in quattro sedute una settimana dopo in un mese il nodulo da quattro centimetri era degredito a un centimetro tocca a portata di mano che le tecniche vibrazionali funzionano il discorso che la donna è ritornata da mito con un annetto e aveva il nodulo che le era ricresciuto a quattro centimetri e mezzo di diametro in questo annetto io avevo appreso che le malattie derivano da conflitti quando è tornata l'ho aiutata a risolvere il conflitto non ho fatto più niente mi sono trattamento l'ho solo aiutato a risolvere il conflitto dopo quattro giorni il nodulo era scomparso definitivamente sono passati anche 15 anni siamo andati alla causa le altre tecniche per carità funzionano ho toccato con mano che funzionano però siamo venuti per eliminare il conflitto che è una dipendenza della felicità verso l'esterno l'anima sceglie di affrontare i problemi e l'anima non sceglie di affrontare dei problemi dove non c'è soluzione anche nelle tragedie più grandi io vi posso raccontare delle cose ma come è possibile vivere una tragedia così grande? è chiaro che quella deve pagare delle situazioni malattie incurabili aiutata a risolvere il conflitto e qualità esiste sempre la soluzione l'anima non sceglie di affrontare dei problemi dove non c'è soluzione i problemi li sceglie la nostra anima per apprendere la lezione si soffre sempre per colpa di qualcuno, per mancanza di qualcosa mentre noi siamo venuti sulla terra per imparare da manci di più e questo potere non può essere delegato a un farmaco, a un guaritore siamo venuti noi a imparare la lezione solo noi possiamo autoguarire, dobbiamo risolvere il conflitto esiste un conflitto, io su 6.000 persone ribadisco ancora oggi mi devo imbattere una persona che ha una malattia senza conflitto e poi l'esperienza mi dice che tutte le persone che risolvono il conflitto tranne per questione di onestà quelle che utilizzano la malattia e quelle in cui il corpo è troppo impasato non è mai da farmaci eppure risolvendo il conflitto la persona ormai ha perso ogni simile di vitalità di sopravvivenza perché la crema è una cosa che gli medicinali troppo pesanti lasciano il segno nel tempo esistono poi delle malattie diciamo che non sono non vanno sul piano di vista fisico tipo gli attacchi di panico la frigidità le foglie determinate cose che non attaccano un organo ma che limitano la qualità della vita anche questa è una causa ben precisa però individuare il preciso conflitto è una lotteria perché le dinamiche possono essere talmente tante che è assurdo ma è così io sono bravissimo mi auto reclamo sono bravino aiutare le persone che hanno malattie grazie ma non sono per niente bravo ammetto le mie difficoltà ad aiutare le persone che hanno la vitivigine o la psoriasi perché per niente per un tumore c'è un conflitto preciso e non si sta per quello la psoriasi faccia un esempio la pelle e il contatto verso l'esterno perché la persona ha difficoltà a relazionarsi con gli altri e con il mondo le varianti possono migliare centrare quelle giuste e possono essere più di uno ci vogliono tante di quelle consulenze io una sola consulenza non ce la faccio mentre il tumore quello non si scappa mi basta una sola consulenza e la persona se ne esce col chakra prende quello del plesso solare dove c'è un lavoro che deve fare più direttamente la persona non basta solo interiorizzare certamente c'è la difficoltà la persona poi dopo che col braccio così ha mosso la mano che ha fatto anche un paio d'ora di come bisogna superare le paure perché oggi ce l'aveva il personale e poi si crea il problema se lui vince le paure il problema alla mano la risolta per sempre però istantaneamente è riuscito a fare un movimento che da un anno non riusciva a fare e la medicina ufficiale si era dichiarata impotente avevano provato di tutto e questi sono fatti tutto il resto non mi interessa non fanno altro che confermare che la mente crea ora ci sono delle malattie facciamo un esempio attacchi di vanico mettiamo come le cose funzionano più o meno in questa maniera mettiamo che un bambino di tre anni e mezzo nell'attraversare la strada nell'inseguire il pallone viene investito da un furvore di colore rosso e si trattura il braccio la trattura il dolore nella memoria di un bambino di tre anni e mezzo il bambino non filtra la notizia gli rimane come informazione nell'incorcio che una cosa grande di colore rosso gli ha provocato sofferenza poi dimentica l'incidente già dopo qualche annetto però quando sarà grande ogni volta che si avvicina a qualcosa di rosso all'improvviso avrà un attacco di panico perché ci è collegato a quella memoria ecco il discorso che questa persona può andare anche del migliore psicoterapeuta psicologo che questa persona riesca ad individuare che la causa che il problema è successo a tre anni e mezzo e che si trattava di un investimento di un furgone che aveva il colore rosso ma solo sia arte divinatoria ma con tanti elementi può eliminare la causa invece con la tecnica del lavaggio bioenergetico creata da Nadir Bhutto con la tecnica del lavaggio bioenergetico la persona rimanendo perfettamente cucita va a rivivere il trauma l'incidente però lo rivive con la mente di oggi lo rivive con la mente lucida non si va in uno stato alterato lo rivive con la mente di oggi con la mente di oggi si capisce che il colore era casuale potrebbe essere bianco, giallo, verde, verde, nero e che il problema non era il colore del furgone che doveva fare attenzione quando attraversava la strada nel momento che ha messo questa nuova informazione da quel momento non avrà più paura del colore rosso perché ha porto con l'informazione che era legata a quel preciso evento che creava oggi attacco di vanni così persone che avevano attacchi di vanni due donne parlo che quando avevano un attacco avevano un asma cronico dovevano essere ricoverate urgentemente in ospedale perché mancava l'ossigeno quindi dovevano essere intubate oggi so che è un fatto delle bombe da portatili e i miei attacchi una volta ogni settimana quando avevano 10 giorni uno era in cura da 8 anni da un'opsidota da 5 anni l'evento se non si elimina tutte le cose funzionano così andare all'origine queste tecniche per me quando si va all'origine si elimina la causa i risultati sono molto molto più importanti e la guarigione è indefinibile e questo lì va a trovare anche il corso per chi vuole fare il lavaggio di energetico oltre alla tecnica della medicina della nuova era per aiutare le persone e sapere aiutare le persone a guarire da ogni tipo di malattia aiutandola a risolvere il complicato però a ogni corpetto c'è la soluzione chi vuole chi vuole chi vuole farlo come operatore listico vuole avere uno strumento in più come operatore listico per riuscire a risolvere anche i problemi non pure psicologici non solo quelli fisici ci vuole attacchi litani che è quest'altra tecnica che faremo quindi rispetto al passato abbiamo un potenziale per dare degli strumenti in più alla persona che vuole fare il corso però sono corsi singoli uno può fare anche solo il test della kinesiologia una persona può fare anche solo il corso apprendere solo la medicina della nuova era o uno può apprendere solo quello che è l'avanzo di energia di Nicolai io ho detto quasi tutto però più che parlare io mi piacerebbe rispondere alle domande perché è ovvio che io mi rendo credibile quelle che sono le conoscenze imparate dalla televisione dai mass media perché funziona in una certa maniera quindi determinate verità non si devono sapere anche chi parla di che si può guarire senza parma ci deve essere per forza attaccato dai mass media perché si va contro degli interessi grandi quindi così e quindi anche io sono stato attaccato giusto perché non sono stato attaccato da lei però sembra che sia l'unico che non ha che mi ha denunciato che mi ha denunciato chi è per chi è rappresentato sotto l'escritto ma Giulio Coliè ha dato anche un falsificato il certificato di morte della persona i carabinieri hanno appurato i veri carabinieri hanno anche appurato che Giulio Coliè e tutta l'equipa era al corrente che il ragazzo arriva al tumore al cervello il telespettatore rispetto all'informazione che viene data questo ragazzo ha fatto una consulenza per celiachie hanno detto che poteva mangiare tutto dopo tre giorni è morta a di là che scientificamente non si può rendere di celiachie non può avere problemi di fare una supposizione a livello scientifico per creare questa supposizione che potevano nascondere la verità che il ragazzo aveva un tumore al cervello perché da sette anni aveva subito valinta che stava facendo radioterapia perché tra la celiachia e il tumore al cervello qualsiasi telespettatore avrebbe dato la causa al tumore al cervello non bisognava dei migrati perché questo libro fa paura alle case farmaceutiche però si sono sbilanciati un poco troppo come hanno creato delle falsità che i carabinieri hanno accettato e quindi sono oggetti di denuncio penale dalla procura di Repubblica di Salerno quindi le cose andranno avanti chiaramente non è possibile che ci sia qualcuno nascosto delle Iene perché se le Iene convenzi sono a livello legale riferazione del reato è un aggravante quindi le Iene mi farebbe piacere che ci fosse però in questo momento non mi possono attaccare perché essendo oggetto penale diventa un aggravante se lo fanno visto che giusto per chiedere come sanno le cose perché qualcuno non deve anche sapere la verità su come si muovono le cose perché voglio anche dire io che seguo con l'interesse di Iene pure dell'altra volta scoprono tanti ci sono veramente tanti sciaraballi ma falsificare le cose per denigrare una persona questo no non è possibile che mettere a nessuno e io non lo posso permettere e non mi interessa niente che c'è Mediaset c'è Bebuccio e tutto questo no no allora sono pronto alle domande perché so che sono cose poco credibili quelle che sono state e qualcuno per presto ci deve essere detto delle cose troppo dirontenti che si può guarire da tutte le malattie ma stiamo scherzando talmente tanti dubbi che non avevo descritto di fin non so allora io ho avuto un ictus sì due mesi fa sì e penso che la mia causa è un punto al lavoro era un sposo di un altro lavoro e sì sì perché nel naso si sente il respiro si scusa sì senti finora io dico ci potranno sempre essere eccezioni ma sinora tutte le persone che hanno problemi di ictus sono sempre trovate con il caglio del cuore bloccato dobbiamo fare una prova? no 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 quel che quindi è giusto così pesa forza verso l'alto io spingo verso il basso non è una gara che è più forte io devo solo misurare la tua resistenza non scuola sono io che mi adeguo la tua forza io faccio il test ma già sei anni sono io che mi adeguo perfettamente smaglio tutte le persone con il caglio del cuore tutte le persone con il caglio del cuore tutto il caglio del cuore tutto il caglio del cuore è bloccato eh? sì sì assolutamente e se hanno la giusta energia al cuore non si può venire in tante cosa che dici? quella guarigione scusa mi aspettavo magari o vieni a Salerno o ti faccio la consulenza gratuita e te ne esci col chakra del cuore aperto o fai il corso quale appaglia però te ne esci lo stesso col chakra del cuore aperto si adesso per una questione dita perché presuppongo che ci siano altre persone quindi senta dico tutto il tempo a lui si lavora solo il chakra perché ogni oggi il chakra non si blocca per un singolo conflitto scusami scusami poi mi ha detto così abbiamo visto il chakra del cuore la causa la forza a quarto anno di età e c'entra la mamma avevi quattro anni e non ti sei sentito successo qualcosa con tua mamma che non ti sei sentito amato e con la ferita che ti c'è di quando avevi quattro anni non l'ancora è risolta te la stai portando ancora dietro e ti sta condizionando la vita in negativo perché con il chakra del cuore bloccato assolutamente non si possono avere le condizioni per gioire della vita e i rapporti sentimentali obbligamente non saranno felici saranno insoddici il cuore bloccato per una legge di attrazione che è perfetta e ti puoi relazionare sentimentalmente solo con persone che anche loro hanno un certo il cuore bloccato e quindi tra due persone che vogliono solo ricevere ma non dare niente il rapporto non deve scoppiare per forza quindi tutto questo il fatto di vivere senza morti è come se la vita ti passa tanto e non ne fa tanto anche se sei giovane ma vivi questa situazione vero o no? sì mi sembra di ricordare quattro anni forse quattro o cinque anni dalla la iniziativa sicuramente e quando sei stato operato tua mamma non era vicino a te l'avevo lasciato solo perché tu ti sei sentito abbandonato da tua mamma in ospedale e però non ti stava vicino generalmente le mamma stanno vicine avevano anche un'azienda e quindi l'ha abbandonata e quella ferita non l'hai ancora dimosso e poi ti sta condizionando la vita i tuoi rapporti sentimentali perché per legge di attrazione fin quando non apri il chakra del cuore non puoi trovare la donna giusta che salva a amarti perché tu avendo il chakra del cuore aperto ti li approvi della capacità di amare perché devi riconoscere che sei un po' duro lasciarti andare nei sentimenti questo lo devi riconoscere se sei un po' duro perché non ci scappa io quando dico una cosa è obbligato il chakra del cuore bloccato cioè ha una somatizzazione amore uguale sofferenza quindi è meglio che io non mi apro nei sentimenti non rapporto con il prossimo ma nelle relazioni proprie perché così evito di soffrire a livello incontro ma sei fidanzato o sposato sei preoccupato per una legge di attrazione che dalla quale non si scappa se lui al chakra del cuore è bloccato lo deve venire pure lei diciamolo appunto pro non so se hai sentito tu che la forza l'ho fatta questa è la nostra forza non so se hai sentito tu ma che la mamma qua ti accorgi ti c'è proprio il cuore bloccato ma che mamma che ti impagno è tua mamma no il cito del cito tra virgolette quando mi ritrovo una coppia mi ricordo una consulenza che ho fatto una ragazza di Napoli cerca del cuore bloccato gli ho spiegato che questa legge di attrazione solo da quel momento poteva incontrare la persona giusta oddio che io una settimana fa ho incontrato un uomo meraviglioso un uomo della mia vita ma tu dici che allora io perché la legge di attrazione se una persona in una coppia una cerca del cuore l'altro no il rapporto si si regola perché chi apre il chakra del cuore non si accontenta più sapendo amare vuole anche avere al proprio fianco una persona che sa amare non si accontenta più avendo il chakra del cuore vuole il meglio tutti gli apporti quindi si scioglie allora poi io lo perdo quello è meraviglioso non lo voglio mai sai che allora domani lo porto da te a fare la consulenza guarda che domani sto al bar a fare il corso no te lo porto da te io alle 9 stavo su prima alle 8 per preparare la sala c'erano già loro in macchina che aspettavano ecco se voi fate un percorso insieme diventate proprio anima partita che non si è messa qualcosa incautamente perché sei fregata vabbè altre domande però per curiosità che si vuole fare testare questo a vostro rischio però è gratis approfittatene è probabile che tutti c'erano eh è probabile che tutti abbiano eh no no non lo diamo qua c'è l'epidemia qui a Padua che io non ho visto in altre città l'anno scorso mi sono meravigliato erano una bambina su 30 partecipanti circa una bambina un peco ma già per me una cittura grande ma generalmente una persona su 5 cercateva del cuore bloccato e non tutti soffrono da mancare ci stanno pure dei genitori che stanno a mancare noi abbiamo venite abbiamo il cuore a forma di salvagonaio le persone gli ho fattuto il bambino l'altro le stagione così le stagione così l'aspetto le stagione della gola il palmo giusto io non sono neanche toccato ma c'è Dio c'è tenuto il braccio di Dio fa forza io non tocco neanche se mi scende da su non toccare fa forza questa è la tua forza mettiamolo qui te ne accorgi che se mi scende da su mettiamolo qui ok pollice nel lungo rischio il palmo sotto per forza tagli la mano e sul sacral per forza e problemi in l'ancra questa parte qua ho la rotazione del vaccino perché ho problemi la colonna vertebrale e la ti risulta perché c'è il primo chakra bloccato perché sta vivendo un contesto di territorio che non ti piace perché il corpo non mente non c'è bisogno di una persona io devo solo avere le conferme ma io come Dio ho fatto le domande nella mente già ho chiesto perché avevo il chakra sacrale bloccato se era l'abitazione no l'abitazione a me così con me le sta bene è quello che succede fuori dall'abitazione i lavori sto facendo assistenza comunque il paese però mi risulta che il lavoro gli ho fatto anche la domanda se il lavoro lo fa con piacere non è che lo fa con piacere è il territorio sì il paese il paese che non le piace io so anche la causa io sono due anni che cerco di curare i capelli perché li perdo mi sto stampando ho fatto due anni di cure a base di erbe cure naturali però mi devo fare mettiamolo così proprio sei sposata fidanzata sì attualmente sono fidanzata sei fidanzata tu dici in privato se dico ecco perché ci sono delle cose che magari al pubblico non posso dirle ma è che la tua scelta ha fatto che fa il caffè e le si si le fornate stai dubitando della tua identità di afferminità ti intendi sotto questo punto di vista tendi a sottovalutare su certe cose sì perché io la causa l'ho chiesta è riuscita fuori quella cosa perché dubito di me ma sulla tua femminilità vero o no sì sì perché mi risulta lavorando con una consulenza perché non devi dubitare di te perché ti devi accettare perché sei meravigliosa così come sei eccetera eccetera cioè tu esci fuori che potrebbero piccari grazie vedete il corpo nel test si sfrutta la capacità che il corpo non mente io posso sapere l'anno le dinamiche le persone qualvolte il corpo mi dice il motivo preciso posso sì adesso io ho giocato a pallone sono un po' infattunato il braccio con le donne faccio meno forza con lui mi metto alla prova pugno chiuso fa forza la forza la forza ok mettiamo la cosa ho fatto lui ho fatto due due volte in più ho domandato se c'è l'energia negativa nell'aura che ci possono essere persone influenzate con le energie negative quelle cosiddette fatte o perché una persona ti odia a morte o perché vivi in campi elettromagnetici e stiamo vivendo la vita noi sappiamo tutto questo cosa serve situazione di danni cerebrali la risposta è no se c'erano io gli facevo mettere la mano su tutte le aree del corpo della testa per esempio questo punto qua è bloccato solo chi soffre di vertigine o di la vita di fibre destro atrofia muscolare sclerosi multipla e fibromialgia il lato sinistro partino alzate vuoti di memoria di concentrazione difficoltà del linguaggio del lato sinistro allora c'è un problema di questo mettiamolo così la decatela così taglio la mano per esserci una malattia degenerativa attiva obbligatoriamente si può avere solo se c'è questo punto energetico bloccato il certo della corona la persona per un problema dove non vede soluzioni perde il senso voglia di vivere e quella perdita di senso di voglia di vivere trasforma la malattia non ce l'ha bloccato e quindi c'è una malattia maliglia tra virgolette giusto per fare un esempio perdita di voglia di vivere io mi vado a trovare perciò inizio dall'alto perché è il punto più importante vado a trovare dopo se c'è bloccato dove si sta creando la malattia maliglia due persone ma tre persone non avevano altri punti energetici bloccati come saranno perdita di senso di voglia di vivere però non ci saranno la malattia maliglia e beh le tre persone mi hanno confessato che stavano meditando di suicidarsi o fisicamente con la malattia o perché vuoi fare di fatto due sempre mutici questo punto è un genito da termine giusto per dire come funzionano non ci spazio non ci spazio da forza questa 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 persone che hanno scusa ti piattrò tempo di più perché tu non lo vuoi se non si ha problemi di leucemia una persona che di sé in qualità sta avresti avendo un punto energetico lo ha bloccato comunque pure la persona aiutando ad aprire questo punto energetico la persona è l'unica che si è salvata in un ospedale io faccio le cose gratuitamente trovo le soddisfazioni questa gioia che ti ritorna quando un bambino io mi sono anche abituato al fatto delle prime volte che hai aiutato una persona da un tumore e mi sentivo di volare Oscar stai calmo che la spiritualità è l'umiltà che io mi sentivo uno stato di onnipotenza di radiografia del tumore sparito e chi mi contiene Oscar stai calmo prenditi la radiografia no la radiografia già lo so che me la metto in un quadretto tutte le persone vedete cosa ho fatto poi aumenta il mio ego ma io non danno niente perché devo rimanere umido non devo dimostrare niente a nessuno perché la spiritualità è l'umiltà nel momento che credi di essere qualcuno sei fallito a livello spirituale allora le prime volte c'è stato questo senso così con il tempo non sono pure abituato certo gli vanno di gioco però quando un paio d'anni fa è successo che avevo fatto una consulenza a Bologna e c'era un bambino da dove hanno portato questo bambino e il bambino aveva un labbro legolino e non far fuggiare non parlava bene ho individuato il conflitto ho detto al genitore cosa fare perché il problema dei bambini non è il bambino che deve operare un cambiamento il bambino ha come punto di riferimento il genitore è il genitore che deve operare un cambiamento nei confronti del bambino ho detto al padre cosa fare per una settimana il padre mi ha telefonato la mattina del quarto giorno dicendomi che il bambino non solo gli era scomparsi il difetto all'altro ma parlava correttamente io per 20 giorni ho prenduto la peridoga della felicità poi i genitori hanno organizzato un mio corso nel loro paesino Trevisano nel Trentino Trevisano 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 no Trevisano no Trevisano è un provviso di Trento e come un paesino di quattro anni ne sono venute più di settanta persone perché tutti nel paesino avevano visto la guarigione di me più di più persone quando facevo i corsi a Milano hanno una grande soddisfazione ma mi sapevi che sono un po' l'unità di vita ma poi la l'unità non c'è nessun non c'è più grande tra l'altro e la felicità salutiamo se tenevo qualche segreto che non ti dice usciva fuori e questo si blocca unicamente quando una persona ha qualcosa da dice da dire e non lo dice perché teme di non essere accettato stimato poi nel momento che racconta istantaneamente il chakra si riattiva istantaneamente e si crea l'autocontro appunto così legge di attrazione vedi tu hai il chakra del cuore aperto state insieme non potevate stare insieme se non ce l'aveva anche lui aperto siete due tipi tosti siete uno riscontrato perché nessuno di tutte e due subisce quindi siete caratteri tosti quando una cosa non vi sta bene la dite subito ai grandi quindi non ce la vittima da tutte e tutte perché non avete questo bloccato no io si eh è questo bloccato sei tu la vittima mi ero dimenticato che avevi questo bloccato dobbiamo ancora fare il mio magari so pure io vittimo no tu sei posto qua non subisce no lui non si dice lo so c'è questo aperto se poi dice nell'ombelico e il palmo sotto per forti per forti per forti poi di una mano per forti non ti come per forti non c'è la mano prima gli avevo trovato un cacro bloccato no però potessi che ho fatto male il test questa forza lui mi aveva detto una domanda metti la mano se hai detto un braccio la forza se tutti i chakra sono aperti il braccio, siccome prima non aveva mai perso forza la domanda al contrario così nessuno mi può fregare scusate e quindi vuol dire che sono aperti si, e la conferma che sono aperti perché ho fatto la domanda al contrario che doveva perdere forza se tutti i chakra sono aperti il tuo braccio diventerà fortissimo la forza cosa fa il tuo braccio? cosa fa il suo moglie? se il merito è sua moglie cosa? cosa fai della vita? no, io quando una persona ha tutti i chakra perti allora è tutto saggio è tutto saggio nel senso che la vita è fatta di problemi non esiste nessuna persona che non ha problemi e si rompe questo si rompe la macchia la pastoria la lui i figli e l'Italia e i suoi e quello e quello la vita è fatta di problemi la persona che ha tutti i chakra aperti è una persona che come tutta la vita ha i problemi e i problemi cercano di farsi di scivolare da tosse non ne fa motivo di sofferenza non facendone motivo di sofferenza non si potrà mai amare quegli altri saranno egoista e ci sta insieme non si può dare l'amore allora con il test che mi è se logico io so tutto e sono in grado di di sognare di tutti io quando mi facevo l'ostima sull'arte di vivere felici quindi sull'autostima dicevo la persona che si ama che ha autostima dubita di tutto perché la persona che dubita non sarà mai manipolata né da un libro né da un maestro né da un giro però abbiamo un'unica possibilità per sapere la verità la sperimentazione diretta ecco nessuna persona ancora oggi ha potuto criticare il libro una volta letto perché aspetta ma questa non è che qua c'è scritto così che deriva da questo luogo è vero ma ci si è ritrovato dentro è vero nessuna persona è una persona che come tutta l'ora ha i problemi ma i problemi cercano di farsi di scivolare da tosse non ne fa motivo di sofferenza non facendone motivo di sofferenza non si potrà mai amare quegli altri saranno egoisti è un egoista è sano egoismo io aggiungo sono gli altri problemi eh sono gli altri problemi no no lui l'importante è che sta bene per si frugge lui non fa quello che vogliono gli altri è sano egoismo pensare prima allora noi siamo venuti sulla terra per imparare ad amarci di più prima vengo io poi vengono gli altri più sto bene io più posso fare del bene agli altri degli altri sarai egoista faccio un esempio una volta faccio una consulenza una signora che si muoveva nell'ambito spirituale aveva fatto tutti i tipi di corso così faccio il testo e lo trovo con trecciate da bloccare adesso che farai il testo a mio marito voglio vedere perché noi di questo abbiamo quelle di uccidere e in più abbiamo quelle di uccidere e le chiave in casa dammi una mano e le chiave sai ma adesso sto bene no dammi la mano cioè si fa il problema allora se uno si vuole e l'altro invece il problema cerca di fare tanto stanno a casa prima o poi usciranno poi comunque abbiamo quello che dice cioè il problema c'è è vero che sto senza soldi io sto facendo un lavoro che non mi piace ma alla prima occasione lo cambio mi chiede e questo è il discorso il problema non ne faccio motivo di sofferenza non facendomi motivo di sofferenza non ti posso mai ammalare e me ne frego che sto senza soldi le leggi spirituali cosa dicono Dio ti darà tutto quello che ti occorre di che vestire e di che mangiare e allora di che ti vuoi preoccupare tutto si risolve io non ti può dare dei problemi che non hanno la soluzione ma io ho perso la casa ho perso sì sì ho perso questo ho perso questa sai mi c'è un libro di 30 anni fa che parlo di chi d'America questa è la soluzione ecco in attesa della prossima cavia della risonanza magnetica intanto una cosa facciamo gli auguri a Oscar perché ieri è compiuto gli anni applausi e poi tra 4 giorni si fa tutti le ame siccome è uno storico perché facciamo gli auguri è una persa di ogni giorno di la vita poi prima si parlava di morti sicili mi è venuta in mente una cosa ci manca perché è venuta a mancare no è venuta a mancare nel senso che ha avuto un problema e di solito quando queste cose succedono è perché si aspetta una persona che deve venire fuori in caso non esiste ci manca una persona per completare il corso dell'armadori siccome deve essere pari adesso siamo dispari una persona io ve lo dico c'è un posto libero per il corso di venerità con l'armadori che si tiene sabato e domenica è vicino ma chi sa mai in genere quando succedono queste cose così improvvise è perché c'è qualcuno in attesa che magari voleva fare il corso del stato questo messo e qualcuno che avesse voglia di fare il corso con l'armadori di venerità c'è un posto libero voglio dire una cosa io sono un ricercatore scrittore ma quello che insegna non fa parte di me d'oro nel senso che il test e il chinesi logico possono fare tutte le persone per una facilità unica è semplicissimo apprendere come si fa il test della chinesi logica le dinamiche di come aiutare le persone a risolvere il conflitto sono quelle se uno ha il tumore in una zona deve risolvere il conflitto e allora si sa se la prima e dopo la signora allora lei c'è un problema di tosse la tosse diciamo può venire da tre problemi separati problema alla gola o problema ai polmoni perché dai polmoni l'arien ho problema addirittura del plesso solare bloccato perché il plesso solare è bloccato se c'è un acido muriato quando è bloccato quindi l'acidità sale in gola e ti limita la gola e quindi dobbiamo scoprire la causa perché c'è questo problema di tosse vediamo il chakra della gola non ha segreti non dipende da quello quindi non ha noduli non ha niente la gola sta apposita per conferma mettiti la mano così la gola sta apposta quindi non dipende dalla gola mettiti la mano così un po' più sopra per forza il chakra del cuore è bloccato mettiamo la mano così per forza eppure il plesso solare è bloccato ma dipende dal chakra del cuore dal plesso solare poi la mano allora la gola la chakra del cuore la tosse del chakra il plesso solare ma devi allora siccome questa acidità questa acidità ti sale e irrita le corde vocale quindi devi sopperire al di là di imparare a non subire più quello devi cercare di mangiare roba a camina perché tutto quello che è acido ti rende ancora di più i suoi castri ti salgono ancora di più invece allora la mattina un bicchiere d'acqua tiepido con il limone sprevuto però questa è un'informazione che per mezz'ora bisogna aggiungere questo vendere più niente il biscotto se no il limone con altre cose diventa di e questo non lo avrei in cammino le ore e non la di questo è come l'aiuto per migliorare perché tu hai proprio quello di solito allora giusto perché vediamo se è l'unica persona che ha questo bloccato obbligatoriamente vive due situazioni uno più questo punto è bloccato più la persona si sentirà svuotata di energia la sensazione è come se una persona si sveglia già stanco la mattina vivi questa situazione sì l'altro punto obbligatoria può mangiare anche poco e sano tu mangi bene perché se no ti dica però dopo mangiato ti serve sempre un po' bocca anche conferma perché con questo punto energetico una persona può mangiare anche poco e sano ma quel poco che mangia non lo digerisce per intero ora lei è magra quindi vuol dire che fanno l'alimentazione curata perché come scarra lei si gonfia subito perché vuol dire che mantisci bene col mangi dai curi la tua alimentazione sì non ho parole amici non ho parole io non so cosa succede succeda a Kurtagolo ma io metterei una X non lo so purtroppo la grande buona volontà degli organizzatori ma io non so se c'è qualcosa a livello energetico ogni volta c'è un problema diverso quest'oggi in avvio sentivamo degli strani rumori da non so quale pianeta poi dopo è partita finalmente il nostro collegamento abbiamo avuto un'interruzione poi abbiamo ripreso sembrava tutto a posto e improvvisamente credo fossero dei problemi di connessione che poi rendevano alcuni tratti totalmente inascoltabili adesso vedremo se nel podcast riusciremo a toglierli ma da vedere poi se il discorso fila purtroppo nel senso il collegamento alla fine è sempre quello e ha sempre funzionato dal punto di vista della connessione altre volte c'erano stati altri problemi di altra natura però la connessione filava liscia ecco che abbiamo risolto il problema di altra natura adesso c'è stata anche la connessione e non lo so evidentemente c'è qualche forza che lavora contro che vi devo dire purtroppo abbiamo fatto il possibile per tenere la linea ancora un po' nonostante che era francamente inascoltabile in alcuni tratti però poi a un certo punto abbiamo dovuto davvero chiudere questo collegamento e vabbè comunque qualcosa si è percepito soprattutto nella fase iniziale prima della fase delle domande insomma in cui Oscar Citro ha fatto delle sue considerazioni abbastanza estreme l'avamo già avuto peraltro come ospite proprio a Border Knights credo due anni o tre anni fa non mi ricordo e quindi insomma sono tutte valutazioni però quando si parla di salute molto delicate molto anche personali e anche direi soggettive quindi ovviamente sono interventi che si espongono anche a dubbi o magari anche a chi invece vorrebbe provare magari questo tipo di test con lui e va bene quindi magari sarà anche il caso di recuperarlo più avanti magari di nuovo come ospite per approfondire il tema indubbiamente interessante questo fatto dei virtuali chakra bloccati i quali possono essere le percussioni per la propria salute insomma il discorso è sicuramente interessante va bene comunque la nostra notte è al di là di questi incidenti di percorso la nostra notte va avanti perché abbiamo adesso davvero un paio di ospiti molto interessanti si comincia tra poco con un bel un bel ospite perché ci riallacciamo a quanto abbiamo detto con Gianfranco Carpeoro domenica scorsa cioè la figura di Edoardo Agnelli siamo proprio nel quindicinale della sua morte morte oscura un volo di 80 metri ne abbiamo parlato con Giuseppe Puppo che ha scritto un libro su questo anzi ne ha scritti due sulla strada morte ma cominceremo lo sentirete tra poco con il ritratto anche di Edoardo Agnelli chi era perché poteva essere scomodo quali erano i suoi progetti anche per l'azienda di famiglia il suo legame anche con la spiritualità quindi sarà davvero interessata è un'intervista che è venuta secondo me bene come quella di Stefania dopo su Roma il potere e anche l'attacco a un certo tipo di giornalismo tra poco allora la notte ricca perché poi c'è Paolo Franceschetti Barbara Marchand tante tante cose da fare insieme e allora si parte ora si normali mettiamoci tranquilli perché dovete sapere che quando succedono questi problemi io sono sempre sapete sono molto calmo diplomatico eccetera però dentro di me mi si accende una tempesta ormonale di rabbia perché sono le cose che per chi fa queste attività il problema tecnico soprattutto quando magari non possiamo intervenire più di tanto perché non è che siamo fisicamente presenti non siamo RTL che abbiamo i tecnici sparsi per l'Italia quindi dobbiamo necessariamente chiedere un po' di aiuto anche alle persone che organizzano in questo caso e quindi quando però li hai tra virgolette istruite e tutto è a posto che poi ci sono i sistemi anche per entrare nei computer e l'abbiamo fatto le prove eccetera è tutto a posto e poi accade quello che non ha una spiegazione e allora c'è una tempesta proprio dentro in cui stritoleresti qualcosa e qualcuno comunque adesso ci siamo messi tranquilli un po' di musica tranquilla adesso un sogno d'amor e poi andiamo a parlare di Edoardo Agnelli dai intanto viviamo questo sogno d'amor insieme vai e vogliamo affrontare questa sera anche perché qualche giorno fa in un'altra trasmissione era venuto fuori un po' questo argomento che aveva suscitato anche la vostra curiosità vogliamo parlare di Edoardo Agnelli soprattutto delle ombre che ci sono sulla sua morte e per farlo io vado a collegarmi con Giuseppe Puppo collega e autore proprio di libri che si sono occupati proprio di questo argomento benvenuto Giuseppe grazie saluto a tutti i tuoi ascoltatori allora soprattutto il libro che ha diciamo fatto da prepista 80 metri di mistero la tragica morte di Edoardo Agnelli prima di Giuseppe concentrarci su quelle che sono le anomalie come purtroppo la storia d'Italia è piena legata anche alla morte di alcuni personaggi ti chiederei ecco un tuo ritratto di Edoardo Agnelli anche una figura molto particolare all'interno della famiglia guarda i 80 metri di mistero uscì nel 2009 della coine di Roma la casa coine edizioni di Roma riaprì praticamente questo caso che era come dire confinato nei sussurri e quei sussurri poi negli anni seguenti diventarono avere proprie grida tanto è vero che un paio di anni fa poi ho fatto un aggiornamento per me di citare gli editori un giallo troppo complicato di Tabula Fatica è uscito nel 2015 sussurri che diventarono grida da quel momento da quando uscì 80 metri di mistero il caso fu riaperto ci furono tante ripercussioni guarda il merito che io mi prendo unico è quello che in seguito a tutto quello che è successo Edoardo Agnelli ha riavuto la sua vera identità Edoardo Agnelli era un personaggio eccezionale che veniva dipinto come invece veniva dipinto come uno scapestrato un buon annulla disinvolto per non dire altre cose peggiori invece Edoardo aveva una personalità eccezionale un animo buono gentile che voleva poi riversare nel sociale non so se posso continuare non ti preoccupare vai poco avanti d'accordo guarda allora ti dico soltanto due cose una nel privato e una nel pubblico nel pubblico scriveva a tutti i capi di Stato a tutti mandava i fax all'epoca perché su Savano Edoardo Agnelli muore nel 2001 mandava i fax a tutti i capi di Stato ad ogni occasione esortandoli alla cultura della pace nella quale gli credeva ovviamente egli era cittadino americano era figlio di Gianni Agnelli quindi aveva credito e poteva quello che scriveva veniva letto e considerato ecco scriveva per esempio al segretario di Stato americano da ogni crisi gli diceva i suoi consigli gli dava e comunque nella matrice comune era la cultura della pace ancora avrebbe voluto fare le auto elettriche pensa pensa no nel 2001 oggi ancora non oggi che è possibile tecnicamente per ridurre l'inquinamento voleva fare della fabbrica di mirafiori come dice il nome una fabbrica di fiori non di armi non di inquinamento ma di vetture nel privato ma non quindi non di inquinamento ma con le vetture elettriche o comunque una produzione eco compatibile come si direbbe oggi basterebbe associare soltanto queste due cose per pensare che grande persona che grande uomo era Doardo Agnelli che invece fu estromesso ovviamente poi dal management non so se è detta bene come si dice oggi ma della Fiat non fu mai coinvolto appunto perché ecco e poi avrebbe voluto vedere i fondi neri tutto lo scandalo che successe poi dopo la sua morte che fine facevano i fondi neri occultati dalla direzione della Fiat perché è una grande poi multinazionale quando parliamo di Fiat non parliamo solamente di macchine in Italia parliamo ovviamente di una multinazionale in tutto il mondo con tanti attività e tanti interessi nel privato ti racconto questo che mi ha raccontato una sua amica l'amica americana della quale racconto invece in giallo troppo complicato ecco dovunque gli fosse era molto legato a questa amica americana così lei si non ha voluto come dire comparire col nome e cognome dunque io l'ho ovviamente verificato l'ho accertato era molto legato a questa persona lei telefonava spesso da qualunque parte del mondo egli si trovasse ma la prima cosa che faceva si faceva passare a uno a uno i suoi otto cani perché questa ragazza aveva otto cani ed Edoardo li salutava con nome e cognome la prima cosa che faceva da qualunque parte del mondo egli fosse prima di parlare con lei voleva salutare i suoi cani a uno a uno ecco colpisce poi da quello che insomma si è capito anche della sua biografia diciamo questa attenzione anche verso dinamiche poco materiali magari poco diffuse anche all'interno della sua famiglia quindi la vicinanza tematiche filosofiche e spirituali certo certo Edoardo era una personalità superiore che dalla Gioveltù si dedicò agli studi religiosi e filosofici inizia in maniera con gli studi filosofici poi le apprende quelle religioni era un'anima inquieta che cercava la verità ma siccome poi la verità non esiste non lo sappiamo noi uomini della contemporanea uomini e donne del novecento la verità non esiste ci si può avvicinare esistono tante verità ecco Edoardo cercava queste verità nelle religioni di cui egli era assiduo studioso ecco in questo senso abbracciò per un certo periodo in maniera più o meno convinta allora voglio spiegare questo non era un praticante ortodosso ecco nel senso che in tanti periodi della sua vita non non era un vero e proprio praticante ortodosso però ecco si convertì all'Islam sicuramente e aveva amici iraniani in Italia e andò spesso in Iran e professò una convinzione profonda nella religione islamica questo sì questo assolutamente sì è vero guarda tanto è vero che ancora oggi in Iran Edoardo è considerato un martire un martire della fede perché gli iraniani pensano che sia stato ucciso per motivi religiosi economici ecco lo inquadrano in questo senso il suo il suo caso e lo considerano un martire delle amiche degli amici dell'Iran che ogni 15 novembre mi telefonano anzi ci siamo già domani sono già organizzati in varie parti dell'Iran e si tengono delle commemorazioni della figura di Edoardo Agnelli considerato un martire dell'islam ecco all'interno della famiglia sia questa sua dimensione poco materiale materialista e anche le cose che avrebbe voluto fare i progetti che aveva che ci raccontavi prima ecco come venivano visti secondo te all'interno della famiglia Agnelli ma secondo me queste sono realtà di fatto cioè il papà allora parliamo della famiglia in generale intendendo famiglia anche i collaboratori i dirigenti le personalità più in vista della multinazionale Fiat ecco da tutti costore Edoardo fu sempre respinto non gli fu mai concesso di avere un ruolo dirigenziale all'interno dell'azienda appunto perché lo vedevano pieno di studi come se studiare o dedicarsi alle filosofie o alle religioni fosse un fatto disdicevole io adesso mi rendo conto che per un manager magari importa che uno studiasse i motori o che si mettesse a fare le prove di marketing o studiassi le strategie con le fette con la scritta Fiat producesse gli occhiali gli occhiali che costano mille euro come fa qualche d'un altro ai giorni no magari contava più quello agli occhi loro e invece no perché qualunque attività umana se non ha la base una solida cultura se non ha solide fondamenti culturali può non servire nulla ecco quindi lo vedevano così e quindi lo consideravano incapace di fare il manager industriale lo sempre estromisero da tutto fino anche dalla presidenza della Juventus alla quale Edoardo teneva tantissimo e che invece non gli fecero perché poi era un tifoso della Juventus tenero delicato ma acceso ed era un aspetto fondamentale della sua personalità non gli fecero fare neanche quello di che stavamo ah sì dunque stavamo parlando della famiglia quindi la famiglia in genere fa questo il rapporto col padre è controverso Gianni era un uomo di mondo che tutti conosciamo questo suo figlio non si rispecchiava non lo vedeva come lui avevano un rapporto come dire da un lato di freddezza se così possiamo chiamarlo ovviamente un papà ha sempre un rapporto speciale con il figlio comunque egli sia però sostanzialmente il papà non lo capì e non lo valorizzò da parte sua Edoardo invece nutriva una vera e propria venerazione per il papà e soffriva di queste esclusioni di questa mancanza di vita con il padre ecco in questo senso ti racconto un altro aneddoto che mi è stato a mia volta raccontato una sera il papà promise ad Edoardo che qualunque cosa fosse successo durante la giornata la sera sarebbe passato a prenderlo per portarlo allo stadio e c'è questa immagine di Edoardo che lo spetta con la bandiera della Juventus con la maglietta della Juventus e che si addormenta sul letto aspettando il papà che invece tornò a notte fonda all'alba e lo trovò così addormentato nel letto invece di essere stato allo stadio ah poi c'è il rapporto con Margherita il rapporto con la sorella scrive delle cose bellissime delle lettere bellissime a Margherita in 80 metri di vita ce ne sono tante ecco gli scrive noi siamo come i fiori come le piante abbiamo un rapporto speciale con Margherita ma anche con lei poi il rapporto sì in un certo senso sì che te vi ero negli anni le vicende che lo coinvolse anche da un punto di vista giudiziario legate agli stupefacenti ti chiedo visto che tante vicende poi spesso vanno lette non tanto come vengono presentate ma magari appunto perché ci sono altre dinamiche poi dietro è possibile che quelle vicende fossero dei tentativi comunque di screditarlo o comunque di ostacolarlo in questo suo percorso sì guarda Edoardo appunto come tante persone dall'animo controverso dall'animo delicato e tenero fece uso di droghe questo è acclarato non è questo il problema continuava a fare uso di droghe cercava come tutti di uscirne fuori uscendoci ricadendoci sono delle dinamiche che coinvolgono che coinvolgono tanti l'episodio più eclatante in questo senso accadde in Africa lui dice che lo volevano incastrare quando lo arrestarono lì in Nigeria adesso in questo momento non mi ricordo bene dovremmo andarlo a ritrovare ma negli anni 90 fu fermato e lui dice che lo incastrarono perché aveva addosso della droga lo incastrarono per speculari per vengarsi su e poi lo andarono alla famiglia l'andò a riprendere in questo senso quindi la vicenda giudiziaria è questa legata alla droga è questa limitata accadde all'estero lui dice che secondo le autorità gli trovarono addosso un minimo quantitativo di droga adesso non mi ricordo neanche cosa fosse comunque tutto documentato è tutto scritto nel libro e lui sostiene che lo volevano incastrare e la cosa durò pochissimo perché poi la famiglia pagò quella che c'era da pagare se lo riporta in Italia con le sue apparizioni diciamo pubbliche erano molto rare no? faceva parte anche questo del personaggio anche le uscite pubbliche anche le dichiarazioni insomma dunque questo no questo no perché Edoardo rilascia delle interviste fondamentali in qualche occasione parlò in maniera chiarissima adesso mi sembra sul panorama adesso mi coglio un momentino all'astrovista tra la memoria vacilla ma c'è un'intervista per esempio a Panorama in cui parlava della cultura in cui illustrava le sue idee in cui disse chiaramente proprio tutto quello che avrebbe l'avessi potuta preparare ti avrei letto dei brani comunque c'è nel libro lui dice no no io voglio fare queste cose e parlava delle sue idee comunque le interviste memorabili poi furono due o tre le uscite pubbliche non aveva ruolo per fare uscita pubblica no? perché appunto non poteva parlare da 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 dirigente o da esponente della Fiat ad alti livelli parlava da Edoardo nelle occasioni in cui lo andavano a intervistare e ci furono ci sono due o tre interviste chiarissime in cui illustra il suo il suo pensiero la sua filosofia fra virgolette quello che avrebbe voluto fare le uscite erano con gli amici aveva due tre quattro amici fidati gli alternava ecco li vedeva mai insieme e si concedeva con loro a seconda di quello che erano lo potevano arricchire ecco per esempio c'era Marco Bava che era già all'epoca un consulente un analista si chiama oggi un analista finanziario quindi a Marco Bava affidava tutte le sue pranzavano insieme tutte le domeniche era una specie di rito con Marco Bava lo invitava nella sua nella sua casa la cuoca preparava sempre sempre la che si mangiava a casa a casa di Edoardo e gli diceva guarda il pesce con le patate è un dolce della domenica e comunque erano occasioni perché Edoardo molto curioso sempre di tutto imparasse e scoprisse delle dinamiche degli ambienti finanziari che Marco Bava gli illustrava un altro amico Marco Bernardini che era invece un giornalista ecco da Marco Bernardini parlavano di stampa di giornalismo di mass media di comunicazione ecco per darci un'idea quindi aveva questi amici li frequentavano alla volta e da ciascuno di loro cercava di imparare qualcosa in più Sì leggevo adesso ad esempio un'intervista in cui richiagò il capitalismo non è eterno ecco vedi vedi io adesso sul momento non mi ricordo esattamente il titolo hanno è testata però le interviste ci sono sui libri basta andare sui libri le ho citate basta andare a riprovare è chiarissimo è chiarissimo no no infatti dichiarazioni immaginiamo che creavano un certo no allora già non lo poteva non lo poteva immagini la prospettiva del terrore dei manager della Fiat quando adessero queste cose Edoardo aveva capito una cosa il capitalismo non poteva durare così com'era non può durare così com'era oggi c'è questo iper super capitalismo ma che cosa ha prodotto ha prodotto diseguaglianze sociali ancora più evidenti ha prodotto come dire il fatto che i ricchi siano diventati sempre più pochi e sempre più ricchi e che i poveri siano diventati sempre di più e sempre più poveri Edoardo voleva un'azienda la sua la Fiat perché egli la sentiva la Fiat che non fosse al servizio dei capitali finanziari non fosse al servizio quelle che poi sono le speculazioni ecco Edoardo muore nel 2001 non ce lo dimentichiamo allora negli anni seguenti dal 2001 in avanti abbiamo scoperto che poi il capitalismo non è più il vecchio capitalismo dell'imprenditore che si arricchisce col plus valore tutte queste teorie qui dell'Ottocento ma il capitalista vero moderno è quello che fa le speculazioni finanziarie quello che investe all'estero ci sono i paradisi fiscali ci sono i fondi occulti fa il riciclaggio di denaro fa le bolle finanziarie fa i titoli fasulli fa tutte quelle cose che abbiamo scoperto negli ultimi anni e che Edoardo aveva intuito su cui voleva vederci chiaro quindi quando dice quelle cose le dice a ragione veduta capendo quello che sarebbe successo dopo quindi anche questa capacità profetica di lucido profeta di Edoardo è una cosa straordinaria in lui per quanto riguarda la Fiat egli voleva che non fosse l'azienda al servizio della finanza delle speculazioni finanziarie del capitalismo di Stato ma che fosse invece al servizio del popolo dei cittadini delle persone che doveva migliorare nella loro vita in questo senso era la sua visione di un capitalismo moderno o comunque contemporaneo o comunque futurista ecco chiamiamolo così immaginati i capelli quelli che avevano dei manager della Fiat quando leggevano di queste cose ogni tanto lo andavano a intervistare Edoardo parlava attraverso i giornali il terrore i capelli che si rizzavano e quindi se già non lo volevano considerare immagina leggere queste cose ancora di più lo consideravano ancora di più oltre lo consideravano con terrore una sua possibile entrata nei ruoli dirigenziali della Fiat allora arriviamo alla morte di Edoardo Agnelli il 15 novembre 2000 il suo corpo viene trovato da un pastore Luigi Asteggiare alla base di un pilone del viadotto autostradale romano sulla Torino Savona siamo vicino a Fossano la croma ha il motore acceso il bagaglio è socchiuso questa macchina che viene trovata parcheggiata parcheggiata al lato della carreggiata del viadotto sul fiume Stura di De Monte la magistratura ovviamente in 4 e 4 8 dice si tratta di un suicidio allora che cosa non ti ha convinto e poi ovviamente nel tempo hai trovato ulteriori particolari analizzato particolari che ti hanno indotto a ipotizzare invece che si sia trattato di un omicidio voglio dire questo se permetti una battuta io non ho fatto un libro per dire che Edoardo è stato ucciso o si è trattato di un complotto io ho fatto un libro per cercare di capire questa figura e per cercare di inquadrare la situazione infatti il libro si intitola La tragica morte di Edoardo Ineggi cioè fare un po' di luce sulla tragedia di cui nessuno parlava più o di cui si era parlato pochissimo o di cui si sussurrava nei salotti bene o nelle pagine sconosciute dei giornali quindi questo è stato il mio approccio se io avessi trovato degli elementi che avessero in qualche modo avallato la teoria del suicidio io li avrei scritti tranquillamente avrei scritto quello che ho trovato in realtà man mano che andavo avanti perché poi tanti metri di mistero è un'inchiesta giornalistica in presa diretta cioè io quello che trovo racconto man mano che lo trovo beh io ho trovato almeno una ventina di elementi che sono ossano cioè sono contrari alla teoria ufficiale del suicidio e che invece portano ovviamente a escludere che si sia trattato di un suicidio ho trovato forse mezza ma mezza è già un'esagerazione prova invece dell'altro senso quindi tutto lascia credere che non si sia trattato di un suicidio io adesso non voglio annoiare facendo un elenco meccanico di tutte queste cose qui ma ci sono talmente tante cose che ma guarda 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 basta leggere gli atti giudiziali che sono diventati poi pubblici dell'inchiesta chiusa dal procuratore dell'epoca che andò ad indagare lì sotto il quale io poi l'ho sentito mi rilascio un'intervista in 80 metri di mistero c'è l'intervista ecco le dichiarazioni ufficiale del magistrato il quale io poi l'ho sentito molto tranquillamente lui dice lui era andato lì dice per fare delle arrivi e dichiara io voglio indagare come si dice con la frase fatta a 360 gradi non escludo nulla adesso mi metto ad indagare dopo due ore a mezzogiorno dopo che arriva il papà e arriva il questore di Torino a mezzogiorno dopo due ore aveva evidentemente già concluso l'indagine in tutte le in tutte le in tutte le direzioni e dice no no si è trattato nel suicidio e da allora poi ecco ma basta leggere gli atti di quell'inchiesta per scoprire che fa acqua da tutte le parti l'inchiesta poi durò in effetti durò alcuni giorni durò un paio di settimane fu chiusa non ricordo bene comunque dopo qualche giorno dopo un paio di settimane ma non mi sbaglio di molto due o tre settimane ecco basta leggere quegli atti per vedere che fa acqua da tutte le parti non solo ma poi nel prosieguo abbiamo scoperto dico abbiamo perché poi insieme a me hanno lavorato altri colleghi hanno lavorato altre diciamo persone che si sono appassionate a questo caso abbiamo scoperto tantissimi e beh è stato fatto un film è stato fatto un docufilm sono usciti altri libri cioè in tanti hanno lavorato ti dico soltanto una cosa appunto per non abusare della tua gentilezza e della pazienza degli ascoltatori che ci stanno sentendo ti dico soltanto una cosa guarda all'epoca c'era un pastore all'epoca parlo del 2000 non il giorno il 15 novembre il giorno la mattina del ritrovamento del corpo di Edoardo che viene sentito un pastore come una delle persone che si trovavano là abbiamo scoperto che il pastore dice che alle 8 della mattina dice quando io sono andato a portare le mucche al pascolo quindi dice io ci vado la mattina presto potevano essere le 7 e mezzo massimo le 8 e mezzo io ho visto il corpo di Edoardo ai piedi del come si chiama il viadotto ai piedi del viadotto giù sulla stura vicino al torrente l'ho visto giù e l'ho visto quando io sono andato a portare le mucche al pascolo queste dichiarazioni le fa negli anni recenti le fa io le riporto in un giallo quindi sono del 2014 no sono del sì dico bene sono del 2014 quindi molti anni dopo perché nessuno gli era mai andato io gli ho detto ma perché non le ha dette queste cose dice no no io le ho dette nessuno me le ha chieste nessuno le ha considerate quindi le acquisiamo in un giallo troppo complicato nel mio libro in questo allora lui dice che porta le mucche al pascolo sono le 7.30 le 8.30 massimo perché lo fa con regolarità tutte le mattine a quell'ora vede il corpo di Edoardo ai piedi del viadotto giù vicino il torrente l'ostura questo da solo smentisce tutta la versione ufficiale che invece si regge sul fatto che Edoardo si sia buttato giù alle 11 dopo 11 11.20 adesso non ricordo i minuti esatti da sopra alle 11 11.20 tra l'altro lui camminava con un bastone all'epoca c'è anche il modo in cui si sarebbe arrampicato è un po' strano no questo fa parte delle venti della ventina di elementi che escludono a mio intendere il motivo che escludono il fatto che si sia suicidato ci sono i motivi ostativi alla tesi del suicidio nella versione ufficiale egli si butta giù alle 11 11.20 ma ripeto c'è il testimone che dice che il cadavere era lì dalle 7.30 ma adesso rispondo alla tua domanda allora sì in effetti io sono andato a chiedere era una specie di precettore amico con lui che faceva compagnia a casa nei pomeriggi ecco era un medico un medico un educatore più che altro un educatore dunque Alberto Bini ecco qui ho ritrovato ogni tanto poi ritrovo Alberto Bini che era una specie di amico precettore intellettuale educatore stava con lui tutti i pomeriggi e l'ultimo che lo vede che passa con lui il pomeriggio prima e lui gli dice chiedo questo ma è vero che era claticante di un piede che si appoggiava a un bastone e dice sì sì è verissimo era andato dal medico ed era sovrappeso e aveva avuto una slogatura un adesso non so bene cioè era soppicante di un piede in quei giorni e si appoggiava ad un bastone quindi anche ed era un po' sovrappeso quindi penso una persona sovrappesa perché poi era un bel uomo Edoardo è affascinante alto piazzato tutto quanto era un po' sovrappeso in quel periodo ed era claticante con un bastone quindi come abbia potuto nonostante nella versione ufficiale saltare la recensione del viadotto è uno degli elementi che a mio avviso ostano alla teoria ufficiale del Sicilio Ecco anche lei se vogliamo aggiungere sempre questo tipo di elementi avrebbe fatto questo megavolo però aveva i mocassini le bretelle erano tranquillamente allacciate quindi insomma pensa che quando ci sono purtroppo gli incidenti in montagna quando le persone purtroppo gli alpinisti o le persone che camminano ad altra cosa intanto succede che qualcuno cada ecco spesso gli scarponi allacciati sono sono divelti sono come dire fuori fuori dai piedi ecco insomma comunque scombussolati o comunque squarciati ecco il megavolo viene ritrovato con i mocassini che basta un tocco per levarseli dal piede ancora ai piedi le bretelle allacciate sì sì tutto quanto e consegni evidenti secondo me secondo me quello che io riporto perché io riporto poi in seguito ci furono altre spiegazioni altre io sono andato da un super da un super medico legale il quale mi ha pregato per ovvie ragioni di la riservatezza ma io ne rispondo tra le poche tra i pochi chiamiamoli prerogative dei giornalisti è quella di avere la segredenza delle fonti di informazione ci manca però ne rispondo quindi ne rispondo io di questo è un super medico legale io gli ho portato tutto gli ho detto guardi faccio una consulenza super partes io le porto qui i referci ufficiali quelli che dicono che le ferite sul corpo di Edoardo sono compatibili con un volo da 80 metri invece quelli che dicono che non è assolutamente possibile che un corpo che viene giù per 80 metri poi abbia soltanto quei piccoli segni quelle poche lessioni che furono ritrovate sul corpo mi dica lei per favore lui mi dice va bene io mi studio tutta la documentazione le foto gli atti giudiziari mi studio tutto l'unica cosa che le chiedo di conservare ci mancherebbe altro la super perizia a titolo gratuito intendiamoci perché le altre perizie sono di parte sono state ovviamente pagate a fior di professionisti la fauna a vera io non ho un povero giornalista che cerca la verità cerca di far luce come secondo me dovrebbe fare dovrebbe fare l'intellettuale il giornalista quindi assolutamente non ho pagato niente a nessuno dopo averle studiate mi dice no no io alla luce di tutto quanto escludo che che le ferite sul corpo di Edoardo possano essersi verificate così in seguito a un volo sarebbero state ben più devastanti poi colpisce che non è stata eseguita l'autopsia l'ho chiesto al magistrato l'ho chiesto ovviamente no? gli ho detto ma scusi no no ci stava ci stava ci stava assolutamente ci stava assolutamente ci stava scappando un bip bip scusi ma ma l'autopsia il magistrato la dispone per qualunque caso un qualunque ritrovamento di cadavere un minimo dispone allora perché lei non ha fatto l'autopsia non ha disposto l'autopsia e in 448 dice no in realtà fu fatto un esame autoptico e nel libro c'è poi di 80 metri di mistero c'è anche l'intervista che io ho fatto al medico legale ma lì c'è tutta una storia adesso io non voglio annoiare chi leggerà 80 metri di mistero poi vedrà bene come andarono i fatti quella mattina adesso lasciamo stare tutti questi altri elementi controversi il fatto sta che là si trova un medico e fa l'esame autoptico affidato dal magistrato e fare un esame autoptico vuol dire tastare così alla buona il cadavere non vuol dire fare l'autopsia che non fu mai fatta io al magistrato gli ero chiesti lui mi rispose così perché mi disse dagli elementi che emergevano alla vista io feci fare soltanto un esame autoptico la spiegazione un'altra spiegazione che non mi ha dato il magistrato ma che mi hanno dato degli amici della famiglia o comunque delle persone vicine a questi ambienti diciamo della Torino delle famiglie importanti di Torino mi hanno spiegato ma guardi fanno così vogliono evitare che si parli di queste cose quindi quanto prima si finisce di parlare di queste storie quando capitano meglio quindi probabilmente non pensate che poi le cose che dico sono provate questo non è provato ma probabilmente ci fu un intervinto cioè ragionandoci ci fu anche una pressione fra virgolette da parte della famiglia affinché la questione fosse chiusa nel più breve tempo possibile allora l'altra cosa che tu hai raccolto da delle fonti fonti anche diverse c'è questo aspetto su un documento che fu tentato di far firmare a Daniele lui si rifiutò vuoi raccontare un attimo? sì sì questa è una cosa che abbiamo scoperto cioè me la racconta Marco Bava che era appunto il suo amico amico in prima battuta ma poi consulente analista consigliere finanziario al quale Edoardo aveva offidato il compito di informarlo di tenerlo a corrente perché non è che fosse proprio un esperto di economia e di dinamica aziendale più che tu sai ma i nostri ascoltatori sanno che quanto sia complicato poi sta dietro a bilanci budget e tutte queste questioni ecco Marco Bava mi racconta quello che di cui fu testimone cioè alcuni giorni adesso non mi ricordo sul momento dove andarlo a guardare sul libro ma mettiamo un mese ma parliamo di poche settimane prima della morte di Edoardo Edoardo ricevette una telefonata dalla famiglia in quale gli dicevano allora tu rinunci lo traduco fra virgolette in soldone cioè alla buona tu rinunci ai tuoi diritti di entrare nella Fiat di far parte dei meccanismi decisionali della Fiat di rivendicare qualsiasi ruolo nell'azienda e noi ti liquidiamo cash come si dice noi ti diamo un bonus e tu ti tieni questo bonus e siamo a posto così un po' quello che successe con Margherita Margherita anche fu fatta la stessa offerta Margherita l'accettò salvo poi salvo poi negli anni seguenti scoprire che le avevano dato a sudire molto poco che le avevano taciuto di tutti gli sviluppi finanziari internazionali della Fiat intentò una causa la causa ma guarda ecco a proposito la domanda che non mi hai fatto mi faccio mi faccio una domanda e mi rispondo allora come mai ti è venuta in mente di fare sta figura di Edoardo di indagare su questo guarda perché mi chiedi all'epoca ero corrispondente da Torino non mi ricordo più di quale settimanale o di quale quotidiano di occuparmi del processo di Margherita cioè Margherita fece causa alla famiglia dicendo mi avete dato molto poco e io voglio di più traduco sempre alla buona rendo alla buona ecco io scopri tutti questi meccanismi finanziari Margherita e Melli il fratello Edoardo ecco io così mi avvicino a questa figlia da lì comincia tutto ritorniamo a noi ecco ad Edoardo viene fatta questa offerta Edoardo si consiglia ovviamente prima battuta con Marco Bava Marco Bava dice io mi ricordo mi telefonò io stavo in macchina mi telefonò mi disse guarda ti devo parlare urgentemente vieni subito perché ho ricevuto delle notizie allora Marco Bava va a trovarlo Edoardo gli racconta di questo meccanismo Marco Bava gli dice no assolutamente no non firmare nulla non firmare nessuna carta non dare nessun assenso perché questo è un tentativo per la tua definitiva estromissione da qualunque rivendicazione decisionale all'interno della Fiat dice lascia stare i soldi perché poi non è che gli mancassero i soldi insomma anche se la famiglia lo teneva a stecchetto un po' in buona sostanza ma non è che gli dice lascia stare la questione finanziaria ti possono dare traduco in termini di oggi 100 mila euro un milione di euro non è quello è che se tu firmi questa carta non avrai più nessuna possibilità di rivendicare qualsiasi ruolo decisionale dei meccanismi dei menaci delle decisioni della Fiat gli spiegò questo fatto ed Edoardo non firmò mai sulla carta e da lì a pochi giorni poche settimane dopo fu toccato il cadavere sotto il viadotto dell'autostrada Terreno-Semona insomma anche la tempistica fa riflettere insomma io qui non ho prove per dire nulla quindi ragioniamo perché poi che fa il giornalista intellettuale ragiona mette insieme le cose ecco questa è un'altra questa è un'altra questa è ancora più forte delle altre un'altra questione venuta fuori che fa pensare ecco concludiamo magari proprio sul ragionamento no ipotizzando appunto che possa essere anche perché diciamo questo tipo di modalità non so se definirla operativa no cioè dell'uomo che cade dall'alto no l'abbiamo vista in tanti casi se non ultimo quello di davide rossi no il caso mps eccetera ma cioè la modalità operativa lascia anche questo diciamo lascia abbastanza pensare però facendo un ragionamento no perché sai che si erano diffuse anche teorie no che spiegavano questo questo possibile omicidio visto che lui insomma si era avvicinato all'islam sciita che appunto la legherità Agnelli passasse a un musulmano no si è parlato anche di questa ipotesi oppure era scomodo per tutte le cose diciamo di cui abbiamo detto anche all'inizio allora quella che tu hai ricordato in prima battuta è la versione la teoria chiamiamola così degli amici iraniani noi quali dicono ma guarda oggi siamo a 14 domani 15 sono 15 anni non che è morto edoardo no sono 17 anni ogni 15 novembre fanno la commemorazione in iran in alcune località dell'iran associazioni circoli di fede fanno la loro pensano che sia un martire di fede e che sia stato ucciso appunto per ragioni economico religiose mettiamola in questo modo quindi questa è la teoria io sono più per la seconda quello che tu hai detto la seconda battuta cioè noi facciamo i giornalisti cioè non abbiamo gli strumenti quando io sono andato dalle persone a chiedergli poi a me non piace fare il giornalismo delle viene no neanche a me non mi piace fare lì striscia alla notizia quello che ti seguo sotto casa queste che io considero degli svilimenti della professione sono d'accordissimo con te guarda allora io quando devo fare un'intervista mando la mail faccio la telefonata soprattutto appoggio quando mi dicono no cioè non voglio parlare non è che mi metto sotto casa ecco invece il magistrato questo può farlo rendo l'idea allora anche dopo il procuratore che è venuto dopo il capo della procura di Cugno aveva tanti di quegli elementi che se avesse voluto avrebbe potuto riaprire l'inchiesta guarda hanno riaperto l'inchiesta del calciatore aiutami Bergamini bravo grazie mi sfuggiva il nome l'hanno riaperta adesso e quello è morto da 15 anni pure lui l'hanno riaperta hanno scoperto tante cose io poi queste cose le ho sollevate ma perché non si riapre l'inchiesta della magistratura la magistratura perché ci sono tanti ma già bastavano quelle che c'era ripeto bastava leggersi le carte dell'epoca lascia stare i libri di Giuseppe quelli di tutti gli altri giornalisti tutti le inchieste tutti i documentari tutti i programmi c'era già ma vabbè con tutto quello che è venuto dopo io mi chiedo ma perché la magistratura non riapre l'inchiesta non sono cose impossibili cioè è successo poco fa mi è ricordato il nome il cacciatore Bergamini del Cosenza un caso liquidato come incidente cioè stava attraversando e lo misse Rosotto così era stato chiuso l'inchiesta giurisica è stata riaperta hanno scoperto tante di quelle cose che la metà basta per arrivare al processo ecco il giornalista non ha gli strumenti del magistrato ovviamente a un certo punto si ferma quindi io non posso sapere chi l'ha ucciso perché secondo me Edoardo è stato ucciso però non posso sapere chi la spiegazione che mi do è quella che hai detto tu cioè secondo me Edoardo è stato fatto fuori perché c'erano in molti che temevano che egli avesse avuto un ruolo potesse avere un ruolo decisionale all'interno della multinazionale Fiat e soprattutto potesse mettere il naso ficcare il naso in tutte le operazioni offshore fondi segreti trasferimenti di denaro titoli e tutte quelle questioni che abbiamo scoperto poi negli anni seguenti Giuseppe io ti ringrazio molto ricordo i tuoi libri 80 metri di mistero alla tragica morte di Edoardo Agnelli e un giallo troppo complicato gli sviluppi del caso e nuove rivelazioni sulla tragica morte di Edoardo Agnelli sono disponibili ad esempio su Amazon vedo ma sono su tanti store adesso sono sono stati ovviamente sono libri che sono andati via però si trovano ancora su internet ma guarda mi scrive qualcuno perché poi la coinet non la ristampo ma a distanza di aria è commovente ancora qualcuno ogni tanto qualcuno mi scrive ma dove lo posso trovare dove così dove così come dire io dedico tutto ad Edoardo ecco dedico ad Edoardo tutto quanto perché merita meritava una nuova considerazione e se siamo riusciti a dargli questa giusta collocazione che gli ha di grande uomo di grande personalità sono d'occhio e io ringrazio te per l'ospitalità soprattutto ringrazio gli ascoltatori per la pazienza con cui mi hanno ascoltato buona buonasera a tutti ascoltatori di border nights probabilmente avrete penso tutti sentito parlare di questo caso spada questa ormai famosa testata che è stata data da roberto spada a ostia al giornalista Daniele Piervincenzi che era andato ad intervistarlo davanti alla sua palestra insieme al suo cameraman se ne è parlato moltissimo in questi giorni se ne sta ancora parlando ci sono state anche diverse strumentalizzazioni se ne sta parlando sia a livello di informazione ufficiale che anche di informazione alternativa anche sui social network eccetera se ne sta parlando però secondo me in modo non approfondito si sta facendo a mio avviso cattiva informazione o comunque informazione superficiale e non completa perché ciò che sfugge spesso nell'analisi che vengono fatte è il il quadro il background che c'è dietro a questo gesto questa intervista infatti nasce proprio da questa mia riflessione dal dal voler cercare per lo meno di dare un quadro più completo agli ascoltatori e cercare di far capire soprattutto come funziona come viene gestito il potere a Ostia e a Roma in generale quali sono i clan i gruppi di potere che che gestiscono la città e le varie parti criminali della della città e quindi quali sono le vere ragioni di questo gesto che tutti abbiamo avuto modo di vedere allora ne voglio parlare questa sera insieme a un giornalista che si è occupato molto appunto del sistema di potere romano ha scritto due libri ne ha scritti diversi di libri ma in particolare su questo argomento che ci interessa questa sera ne ha scritti due che si intitolano grande raccordo criminale e Roma brucia lui si chiama Pietro Orsatti buonasera Pietro buonasera allora Pietro partiamo proprio dal dall'episodio di Ostia spieghiamo che cosa è successo ma che cosa è successo realmente e soprattutto che cosa c'è dietro quindi qual è questo sistema di potere allora la situazione è abbastanza complessa e radicata dalle cenni sul litore romano dobbiamo pensare che comunque Ostia non è un oggetto estraneo alla capitale cioè quello che succede a Ostia di fatto succede in moltissime altre aree della città certo Ostia essendo fuori dal raccordo anulare di circa 18 km viene confederata quasi un oggetto separato un oggetto urbanistico e sociale separato di fatto non lo è ha una particolarità quella di essere proprio sul litorale in una delle zone di più facile penetrazione da una serie di business storicamente soprattutto quello del traffico di droga e il traffico di armi storicamente è questo il business criminale principale che transita per quel territorio di fatto coperto e utilizzato da una serie di organizzazioni mafiose fra cui cosa nostra si trova una grossa presenza di camorra si trovano una serie di emergenze di quella che viene definita l'ormai deceduta bandana magliana che in realtà è rimasta se non in termini organizzativi e sicuramente in termini di piccoli gruppi che comunque lavoravano di concerto con altre organizzazioni dopo l'offensiva degli anni 90 con gli arresti eccetera che sono venuti il famoso processo degli anni 90 che vide per la prima volta sulla bandana magliana alcuni condannati per l'associazione mafiosa ci sono alcune organizzazioni autoctone e poi ci sta come nella zona nella zona diciamo della romanina e quindi della parte esattamente opposta della città organizzazioni di origine sinti criminali nella zona romanina eccetera ci stanno i Casamonica e a Ostia ci sono i loro parenti perché sono imparentati con vari matrimoni eccetera quindi c'è una continuità proprio in termini anche proprio familiari gli Spada gli Spada e i Casamonica sono sempre stati delle organizzazioni estremamente estremamente violente sul territorio non si conoscono omicidi eccetera però per esempio sulle estorsioni sullo spaccio sulle intimidazioni sul recupero crediti su casi di usura e così via sono sempre stati estremamente efficaci e violenti quindi non stupisce che gli Spada abbiano in alcuni decenni preso il possesso di fatto di un'intera zona del decimo municipio in termini quasi militari c'è nel senso la zona di Grazia Casparri la zona di Ostia e Polente è praticamente in mano loro hanno un controllo totale del territorio talmente tanto profondo che gestiscono perfino tutta la parte delle assegnazioni delle case popolari o delle occupazioni illegali delle case quindi hanno anche una grande base di consenso dovuto al loro ruolo quasi di sostituzione verso le istituzioni perché quando gestisci le case popolari di fatto gestisci la vita della gente e quindi hanno un fortissimo consenso in più mentre i Casamonica sono stati sempre abbastanza lontani visibilmente dalla politica gli spada e soprattutto negli ultimi anni con il settore dell'ultra destra con anche se ad esempio ci sono state delle famose dichiarazioni di voto degli spada di alcuni esponenti degli spada per le 5 stelle delle scorse elezioni ma di fatto il loro rapporto strutturale è quello con l'estrema destra del litorale che è sempre stato fortissimo e quindi in questo caso su casa Pound quindi è una situazione abbastanza dinamica la questione è che Ostia continuo a ripetere è uno dei centri nevralgici per alcuni traffici non locali ma internazionali abbiamo la presenza di due porti che sono il porto di Fiumicino e di Ostia di un aeroporto internazionale dove continuamente avvengono sequestri di sostanze stupefacenti e sono ma anche in grandissime quantità dove e che sono episodi nel senso che su quello che riescono a bloccare e chissà quanto passa e poi sono sulla linea che viene da Fondi cioè dal mercato ortofrutticolo di Fondi che è considerato uno dei punti cruciali per i traffici da sud a nord Italia quindi è un punto nevralgico dell'attività illegale principale dell'organizzazione mafiose che sono quello del traffico degli stupefacenti e quindi quel territorio ha una presenza fortissima e in più c'è il litorale e il litorale significano gli stabilimenti e le concessioni balneari significa che ogni estate nel cosiddetto nero che avviene c'è la possibilità di riciclaggio di denaro sporco a livelli impressionanti e lì c'è un blocco di potere storico imprenditoriale quasi di un cartello di organizzazioni che giocano su tutto questo settore che produce un quantitativo legale di denaro enorme e su cui in più casi come hanno raccontato in chieste giudiziarie ci sono delle penetrazioni e dei rapporti molto inquietanti con invece organizzazioni criminali ecco già da da queste cose che ci hai detto si capisce molto bene il sistema criminale perché molti magari non conoscendo la realtà romana la realtà di Ostia ma comunque di tutta la città di Roma e la realtà del potere di come funziona il potere come viene gestito e spartito tra i vari gruppi di potere molti potrebbero pensare che questo gesto di Roberto Spada è stata soltanto una una diciamo una manifestazione così estemporanea del coasso di turno mentre invece c'è molto di più dietro c'è una vera e propria rivendicazione del potere nel territorio sì c'è nel senso la presenza l'atto intimidatorio che può essere violento ma può essere violento fisicamente è un'abitudine da quelle parti diciamo che lui probabilmente si è bruciato l'occasione di passare da reggente a capo del clan perché di fatto stava facendo reggente dopo l'arresto e la condanna con l'aggravante mafiosa del suo parente che è stato condannato poche settimane fa poi tra l'altro e lui di fatto in questa maniera si è reso troppo visibile troppo diciamo ha perso il controllo lì la questione è che probabilmente i nervosismi si sono scatenati nel momento in cui è emerso con chiarezza il rapporto con Casa Pound che loro non pensavano che potesse poi causare tensioni fino a quel punto nella senso di quella forte pressione da parte della stampa che cosa c'entrava Casa Pound che fa le manifestazioni per la legalità con poi con un'organizzazione come quella degli Spada e questo suo perdere il controllo in maniera fredda però nel senso che fa capire che quello è il modo in cui ci si pone davanti a determinati momenti nel senso per risolvere una questione di questo genere da una testata per far ribadire eccetera il problema è che lì c'era una telecamera quello un giornalista eccetera quello che mi inquieta in questo momento invece è questo tentativo di strumentalizzazione politica di fatto di tutta la vicenda perché si sta il prossimo weekend si è soluta per il ballottaggio perché in quella maniera si sta cercando tutto di scaricare addosso a Casa Pound il rapporto con gli Spada in realtà non è così perché tutti hanno cercato voti nei decenni passati e negli anni passati degli Spada gli Spada muovono 10.000 preferenze insomma non è che possono determinare assessori al municipio possano determinare moltissime cose con un blocco così uniforme e monolitico di voti quindi bisogna stare molto attenti su quel territorio cosa che tutti dimenticano e soprattutto capire quali sono i colletti bianchi di quel territorio che utilizzano la forza intimidatoria degli Spada già nelle scorse elezioni ci sono stati degli episodi abbastanza sorprendenti tipo di un gruppo di esponenti locali e nazionali tra cui alcuni senatori che sono andati a incontrare alcuni degli imprenditori editoriali balneari dichiarando poi dei Cinque Stelle sto parlando dichiarando poi che avevano incontrato la parte pulita degli imprenditori onesti e puliti di Ostia con indagini in corso invece su loro soci c'era stato l'arresto del presidente del porto esponente storico eccetera dell'associazione balneare insomma comunque un ambito molto opaco su cui non si è mai fatta veramente chiarezza e che in qualche modo era evidente che si andavano a cercare voti in un bacino senza sapere poi esattamente o facendo finta di non sapere da dove io spero che per i Cinque Stelle essendo appena emersi in quel momento non ci fosse la consapevolezza di chi di quale ambiente non tanto le persone ma di quale ambiente andavano a incontrare e a in qualche modo accettare la la cui accettare in qualche modo la loro sponsorizzazione di un ambiente estremamente opaco poi lì dobbiamo capire basta guardare il processo mafia capitale per capire che i rapporti sono abbastanza complessi in tutta Roma cioè Roma non c'è nessuna organizzazione criminale che abbia la possibilità di controllare l'intera città stiamo parlando di una città che supera in realtà sul numero di abitanti non tanto di residenti ma di abitanti 5 milioni di abitanti con alcune sacche di totale nero sia in termini abitativi sia in termini lavorativi enormi cioè sono enormi sacche su questo tipo di ambito nessuna organizzazione ha la capacità la figura di Carminati come l'ha disegnata e come in qualche modo viene anche riconosciuta da una sentenza che non riconosce l'aggravante mafiosa finora in primo grado ma in qualche modo fa capire è il broker cioè gli smazzatori di affari che era Carminati adesso c'è questa prima sentenza che in qualche modo allevia lo shock a tutte le organizzazioni degli arresti del 2014 ma comunque sono tutti ancora alla finestra a capire che cosa fare ogni tanto c'è qualche disequilibrio però comunque gli affari continuano comunque il traffico degli superficienti è in continua crescita questa situazione è assolutamente non capita non e non affrontata non tanto dalle forze dell'ordine della magistratura che in qualche modo stanno cercando di contenere questa capacità poi essendo unati nel primo libro la definiremo un'associazione temporanea d'impresa dove ci sono tutti dentro in un modo o nell'altro tutti i settori produttivi economici addirittura in alcuni casi culturali e dove praticamente hai un potere non essendoci un'organizzazione con una chiara visibilità ma numerosissime organizzazioni con vari tipi e tipologie di azione che vanno da quella semplicemente corruttiva anche a formule di lobbismo molto aggressivo ma comunque ancora in ambiti potremmo definirli quasi legali che determinano che cosa e dove va che cosa si pensa di fare degli affari di Roma e che dove va a finire questa città chi vive a Roma sa perfettamente che la città è precipitata da ormai 7-8 anni proprio precipitata e che la situazione è assolutamente ingovernata non ingovernabile perché se ci fosse qualcuno in grado di governarla probabilmente che dei segnali diversi ci sarebbero e non questo continuo declino e quindi lì c'è da vedere da vedere parecchie cose insomma bisogna metterci mano pesantemente ecco per quanto riguarda la strumentalizzazione politica che viene fatta in questi giorni hai fatto bene a ricordare questo punto cioè il fatto che nonostante ci sia una diciamo particolare simpatia degli spada e di certi poteri criminali nei confronti dell'estrema destra ma nonostante questo gli spada e gli altri gruppi di potere hanno sostenuto di volta in volta si sono appoggiati alleati non so quale altro termine si potrebbe utilizzare con un po' tutte le forze politiche compresi anche i 5 stelle quindi quello che lo hanno sicuramente cercato lo hanno sicuramente cercato con i 5 stelle del contatto ed è stato proprio evidente su questo quindi si scusa di me no 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 prego vai quello che colpisce anche questo di questa strumentalizzazione cioè si vuole far ricadere tutto su Casa Pound mentre invece come abbiamo ben spiegato in questa intervista non è così e c'è una sorta a mio avviso di endorsement al contrario nel senso che non è Roberto Spada o comunque il clan Spada che ha fatto endorsement nei confronti di Casa Pound ma semmai è probabilmente il candidato di Casa Pound che sapendo il conoscendo bene il potere che ha il clan Spada si è dovuto o voluto appoggiare su quel territorio per avere i voti io adesso dirò una cosa abbastanza pesante allora sulla politica in genere il rapporto tradizionale diciamo noi andiamo a fotografare in termini quasi epistemologici com'è il rapporto tra politica e criminalità storicamente le organizzazioni mafiosi sono parassidali del sistema politico ed economico a Roma si è quasi ribaltato il paradigma certo o no è la politica che diventa in molti casi parassidaria del sistema criminale cioè praticamente il sistema criminale è più forte in tutti i termini del sistema politico e il politico va a cercarsi l'appoggio per sopravvivere per avere spazi per essere eletto comunque per mantenere i propri affari basta vedere qual era la tariffa corruttiva che veniva data da alcuni esponenti politici di rilievo nella capitale si scopre che venivano corrotti per poche migliaia per lo stipendio tipo di un milione mille mille e cinquecento euro almeno vent'anni fa un politico ci volevano fiore di decine se non centinaia di milioni di lire per corromperli cioè adesso è quasi la mancetta al ragazzo di bottega in alcuni casi stiamo parlando di esponenti non di municipi ma esponenti di rilievo all'interno delle istituzioni comunali mentre ad esempio i funzionari avevano tariffa molto più alta e il funzionario era più importante del politico quindi la politica di per sé è talmente tanto scusate il termine sputtanata che addirittura bisogna dargli la mancetta perché non rompano le scatole però li finisce e questo è un dato di partenza che emerge chiaramente dalle carte processuali altra cosa è il rapporto invece con l'estrema destra delle organizzazioni mafiose è strutturale sto parlando delle organizzazioni mafiose tradizionali rapporti con Cosa Not con Drangheta con la Camorra eccetera è sempre stato strutturale ma da sempre dalla fine della seconda guerra mondiale e le organizzazioni eversive nere hanno lavorato di concerto sempre con organizzazioni con organizzazioni mafiosa cioè un rapporto strutturale storico documentato da decine se non centinaia di processi grandi e piccoli grandi e piccoli altra questione ancora di più importante secondo me è che questo rapporto strutturale è stato in qualche modo consentito in una logica su questo ci ho lavorato parecchio quindi ho una base documentale sostanziosa è sempre stato appoggiato se non favorito e sicuramente utilizzato da pezzi di apparati deviati di questo stato non c'è non c'è una strage di stato in questo paese dove i tre soggetti mafia e versione nera e apparati non siano presenti contemporaneamente chiaramente cambiano i ruoli a volte quello che fa l'esecutore quell'altro che fa il dipistaggio quell'altro che fa il logista quello che trova il materiale eccetera ma sto parlando di stragi dalle prime stragi di portata dalla ginestra fino anche adesso alcune cose che stanno uscendo sul rapimento moro per intendersi per la strage di Bologna o amicidi eccellenti come quello di Persanti Martarella e sempre le tre organizzazioni si trovano e lavorano di concerto c'è un processo in particolare è una strage in particolare dove questo rapporto strutturale arriva a sentenza definitiva ed è la strage del 904 del 1984 il treno di Natale dove è evidente addirittura ci sta l'armiere che è un agente segreto sudafricano che fornisce una valigetta iper tecnologica ha terroristi neri che poi la forniscono poi c'è un senatore addirittura dell'MSI che trasposta questa valigetta la fa avere a chi dovrà metterla poi partono tutte le questioni dei pistaggi cioè stiamo in una situazione in cui di fatto in un'ottica di guerra fredda chiamiamolo così di scontro di blocchi a livello internazionale uno dei punti dove avveniva lo scontro geopolitico si era innestato in Italia e lì le mafie e le organizzazioni di versione nere hanno avuto un campo aperto cioè mani pulite e campo aperto e si sono mosse e sono state utilizzate in una logica di questo genere ovviamente ogni azione ha portato potere e questo potere si è innestato in cui vediamoci chiaro la prima industria italiana il primo settore economico produttivo italiano è quello della carminarità organizzata carminati non è figlio di nessuno ha una storia nelle versioni nera ha una storia di rapporti con organizzazioni criminali è una storia di rapporti con organizzazioni eversive è una storia di rapporti come è stato ipotizzato in più di un progresso con l'apparati dello Stato e questo fa capire perché carminati che non è continuo a ripetere figlio di nessuno come molti altri aveva quel tipo di potere e permettetemelo continua ad avere quel tipo di potere su Roma tra l'altro a proposito delle stragi noi ci siamo occupati ci occupiamo spesso in trasmissione delle varie stragi italiane che sono vere e proprie stragi di Stato come giustamente hai ricordato tu anche di omicidi eccellenti tu hai citato l'omicidio di Aldo Moro ma anche quello di Pierpaolo Pasolini si ritrovano sempre questi stessi elementi che agissono insieme di concerto hai citato Pasolini ed è perfetto lì ci sono tutti c'è questo bellissimo libro scritto dalla mia amica prima che collega Simone Azzecchi che è Pasolini maschera per un massacro il massacro scusami Pasolini il massacro di un poeta che è emblematico le riesce a individuare tutti i soggetti che si sono messi lì in maniera organizzata o no a quasi mettere in piedi un rituale esoterico di distruzione del corpo e della storia di Pierpaolo Pasolini in una notte di novembre all'iteroscalo di Osce e la presenza fascista ormai cioè di la presenza non soltanto di borgatari eccetera ma di elementi della destra fascista fra cui alcuni elementi della destra neofascista catanese erano lì erano presenti su quel luogo questo è una cosa che fa capire che in qualche maniera queste alleanze si investavano e si mettevano in atto operazioni perfino per l'uccisione di un intellettuale scomodo come era come era Pierpaolo Pasolini figuriamoci per poter fare una strage su un treno o in una stazione ferroviaria sì Simona che tra l'altro anche mia amica l'abbiamo avuta ospita anche qui in trasmissione e lei ha dimostrato secondo me greggiamente questo libro suo Pasolini massacro di un poeta è fondamentale io lo ricordo sempre essendomi occupata molto del delitto Pasolini io ritengo che il libro di Simona Zecchi sia il migliore scritto finora sul delitto Pasolini assolutamente sicuramente quello più aggiornato quello con meno ideologizzato in termini di ipotesi di indagine sicuramente questo cioè su Pasolini si è mostro sempre in termini o moralistici da un lato o ideologici e quindi alla fine le verità erano sempre parziali le cose che già emergevano all'epoca venivano accantonate questo non è un paese laico ma non è neanche per le organizzazioni laiche c'è una chiusura mentale c'è questa abitudine a essere parte militante c'è nel senso militare del termine che non c'è mai non finnesca mai un processo serio di critica di analisi di autocritica e su questo poi alla fine quando si va sulla lealtà e non soltanto sulle parole questo può provocare tragedie immenze la strategia della tensione in Italia è stata una cosa che è avvenuta il termine strategia della tensione strategia di Stato viene utilizzato nei paesi delle democrazie occidentali solo per il nostro paese e non sarà un caso e questo dobbiamo cominciare a capirlo tra l'altro io sto lavorando su cose di archeologia criminale politica ho appena finito di lavorare su Giuliano e portarla dalla Ginetta però comunque semplicemente pensare che le mie fonti principali sono gli archivi dei servizi segreti americani e inglesi e che ancora le carte segretate del processo di Viterbo supportare dalla Ginetta non siano fruibili nonostante che siano desegretate da due anni ti fa capire qual è l'atteggiamento anche proprio dell'apparato Stato cioè che mette qualsiasi tipo di possibilità purché non escano fuori certi nomi certi argomenti certi collegamenti e questo è un peccato originale che ci stiamo portando avanti da 70 anni cioè il prossimo anno è l'anno in cui il settantesimo anniversario della promulgazione della Costituzione e questa Costituzione parliamoci chiaro non è mai stata applicata fino al fondo bene Pietro allora per chiudere ritornando anche un attimo alla vicenda al caso Spada mi è venuto in mente un altro particolare diciamo riguardo alla presenza di elementi di estrema destra perché tu hai parlato del delitto Pasolini quindi mi è venuto in mente questo personaggio che è Maurizio Boccacci un personaggio della destra romana dei castelli romani in particolare molto influente soprattutto negli anni scorsi diciamo nei primi anni 90 ma ha attraversato diverse stagioni della destra romana lui è colui che l'anno scorso insieme al suo gruppo si è reso responsabile della distruzione della profanazione direi del parco dedicato a Pierpaolo Pasolini all'idroscalo di Ostia e lui nei giorni scorsi su facebook ha espresso la sua solidarietà a Roberto Spada quindi tutto questo a chiudere diciamo questo quadro che spero siamo riusciti insomma a dare ai nostri ascoltatori posso fare un'ultima un'ultima cosa un'ultimo accetto in questo che poi è relativo dal caso dal caso di cronaca da cui siamo partiti per discutere c'è questa cosa dell'aggressione a un collega alla capocciata famosa rispetto a una fare rosso e così via questo è un paese che non ha mai amato l'informazione e soprattutto il sistema di potere non l'ha mai tollerato non l'ha mai capito e ha tentato sempre di asservirlo siamo in un sistema di potere dico politico legale siamo in una situazione in cui praticamente è colpa tutta dei giornalisti e si cominciano a fare le classifiche il giornalista buono e il giornalista cattivo questo è un paese dove ci sono 220 230 colleghi che vivono sotto tutela perché hanno problemi di minacce dalla determinata organizzata te lo dico proprio in maniera esplicita devi moltiplicare almeno per 6 quel numero perché la maggior parte delle persone non denuncia perché nel momento in cui tu hai tutela smetti di fare il giornalista fai altro diventi il testimonial di qualcosa e questa è la cosa più grave in assoluto nel senso che c'è questa criminalizzazione del giornalista e non casomai degli editori o delle pressioni politiche eccetera senza capire che in questa maniera non è che si colpisce delle persone ma più o meno per simpatia o antipatia per quello che dicono non gli piace non sono a favore della propria parte politica della propria parte culturale lì la questione è un'altra nel momento in cui si spengono voci perché così si spengono voci cioè con le minacce con le liste di prescrizione sul sacro blog di Beppe Beppe Grillo con la criminalizzazione col cacciare da un ristorante tre conissi stanchi perché ci sta il Gota che ha scelto di 5 Stelle che ha scelto lo stesso lo stesso lo stesso ristorante nel fare nell'attaccare sistematicamente Federica Angeli sul litorale può piacere o non piacere il suo modo di scrivere o di fare giornalismo ma che tu forza politica tenti in tutti i modi di togliere spazio voce protezione una persona che vive sotto scorsa perché ha denunciato quello che avveniva ha denunciato con nome e cognome con testimonianza diretta per un duplice tentato omicidio significa che sono saltate tutte le cose che anche la nuova politica la prima cosa che vuole fare è che non si narvi quello che succede in questo paese le notizie fortunatamente hanno una forza incredibile riescono a uscire fuori comunque la questione è che di fatto in questo paese non c'è libertà di stampa ma non perché ci sta una parte politica che vuole impedire che escano certe qui c'è tutto l'intero settore e sistema di potere politico e economico in questo paese che non vuole che la realtà sia raccontata e che la nuova politica abbia scelto di appoggiare e anzi spingere fino all'estremo e quindi con questo attacco continuo ai giornalisti e non agli editori ai giornalisti e non ai politici significa in qualche modo che questa nuova politica assomiglia molto ha una politica che è precedente la nascita della Repubblica Italiana e penso di essere stata abbastanza esplicita senza definirli fascisti sì purtroppo bisogna darti ragione su questo quadro che hai fatto noi anche di questo ne parliamo spesso ci sono anche vari livelli di manipolazione io ti dico una cosa proprio brutale in un'intervista di pochi giorni fa che mi hanno fatto un'altra radio c'è stata una deputata dei Cinque Stelle che dopo che ci hanno veramente massacato io ho preso querele per la storia dei balneari e degli incontri fra i balneari e alcuni esponenti locali e nazionali dei Cinque Stelle perché era una notizia quella quindi andava data in qualche maniera io ho fatto solo il mio lavoro di cronizia e infatti è stata archiviata la querela perché non aveva nessuna connotazione di reato non è neanche arrivata a processo però lì la questione è la seguente è che se tutti muovi ci hanno massacrato sono sette anni che sono diventati il nemico pubblico numero uno per i Cinque Stelle guarda caso c'è quelli che raccontano quello che succede devono essere addittiti è già questa cosa qui inquieta un attimino però la questione è questa che è una persona seria fra l'altro dice dovremmo chiedere a voi giornalisti di inchiesta aiuto per capire quello che succede questa persona sta in commissione antimafia è lei che mi dovrebbe dare le informazioni non io giornalista a dare le informazioni a lei è chiaro? sì non puoi essere incompetente e qui te lo dico proprio brutalmente e prendere un posto casomai di qualche competente e aver fatto nel senso non è che per forza devi essere un genio quando entri dentro però comunque devi studiare eccetera questa persona fra l'altro ti dico è una che ha fatto un ottimo lavoro in commissione però contemporaneamente c'è poi dopo che mi hai criminalizzato attaccato querelato intimidito in tutti i modi poi mi viene a chiedere il favore non ci abbiamo capito niente c'è stata la mano devi fare un passo di umiltà perché a questo punto cioè non è più la parte professionale ma è la parte politico e etica che scatta nelle persone e questo è il sentimento diffuso in tutta la categoria giornalistica in tutta la categoria giornalistica ovviamente siamo tutti sui 5 stelle perché se ti hai massacrato significa che vuoi azittirci e quindi vogliamo sapere perché e quali sono i tuoi rapporti di potere e quindi ti stiamo addosso è ovvio che funziona così noi il nostro mestiere non abbiamo smesso di farlo sono loro che hanno preso cioè hanno finta di fare un mestiere invece stanno facendo altro tutto qua bene Pietro allora ci siamo un po' allargati diciamo rispetto alla cosa che sulla ostia la capocciata non sarebbe arrivata se ci fosse stata una politica più corretta cioè te lo dico proprio brutalmente se non ci fosse stato quel livello di criminalizzazione di giornalisti spada ci avrebbe pensato due volte a dare quella capocciata ma essendo ormai giornalisti gente da intimidire tutti pressolati eccetera parliamoci chiaro ma vuoi parlare a un settore che è in totale crisi dove la gente scrive per 12 euro a pezzo lordi e dici che sono tutti criminali ma stiamo scherzando noi siamo tutti pazzi casomai che continuano a fare questo lavoro invece di andare a fare che ne so l'ufficio stampa di qualche consigliere verde o consigliere dei 5 Stelle o consigliere del PD perché ormai stanno diventando tutti uffici stampa i colleghi che tentano di sopravvivere gli altri pigliano schiaffi allora questa è la questione non è neanche politica io non lo pongo neanche in termini politici io lo tengo proprio in termini etici questo qui non è così la capocciata arriva perché tu hai isolato quella persona e quindi quando hai isolato la persona è di fatto raggiungibile lo raccontavano i magistrati quando un magistrato è solo può subire l'attentato se tu isoli un giornalista tutte le vittime i giornalisti ammazzati dalle mafie prima hanno subito una campagna di diffamazione prima e dopo la morte impressionante ed eccoci qua siamo in una situazione del genere che non è più soltanto su un giornalista ma sull'intera categoria cioè l'informazione non deve più esistere questo è il messaggio che stanno mandando questo è quello che stanno mandando e quindi questa cosa è stata raccolta ovviamente da tutte le forze politiche che non vedevano l'ora che qualcuno sdoganasse questo tipo di messaggio ed eccoci qua cioè siamo ad una cosa in cui un esponente dei crani ha telecamere accesa tranquillamente dà una capocciata in faccia a un collega ed è finita lì cioè si fa qualche cosa si mette la medaglia che si è fatta un po' di carcere perché ha fatto il suo ruolo di picchiatore e siamo tutti contenti e felici e dopo il voto di Ostia di Ostia non se ne parlerà più ma è questa la società che vogliamo è questa la politica che vogliamo io non lo so io non mi sento più rappresentato da nessuno in questo tipo di in termini politici quindi proprio non ho neanche la cosa di dire dico questo perché sono del PD io dico questo semplicemente perché sono uno dei tantissimi e ti dico la maggior parte giornalisti che di tanto in tanto appena tirano fuori qualcosa che faccia vedere qualche cortocircuito non ti dico che ti faccia vedere chissà quale quale cosa subisce intimidazioni insulti di ogni genere e questo è ovviamente prima o poi andrà in cortocircuito andrà in cortocircuito ma non andrà in cortocircuito per noi andrà in cortocircuito per i cittadini perché noi abbiamo una funzione sociale che è addirittura maggiore di quella della politica cioè noi in qualche modo se la politica ci massacra è ovvio che ha tutti gli strumenti per massacrarci e alla fine eccoci qua mi dispiace che non lascio questi messaggi di grande ottimismo ma comunque noi purtroppo ne parliamo spesso di tutte queste situazioni perché facendo diciamo quella che viene chiamata controinformazione anche se non mi piace molto il termine ma preferisco informazione basta senza nessun conto e senza nessun aggettivo come alternativa o cose del genere è informazione noi quindi parliamo spesso del funzionamento di questo sistema anche di queste cose che tu hai detto hai fatto molto bene a specificare il contesto del clima che si è creato ormai nei confronti dei giornalisti devo dire purtroppo anche nell'opinione pubblica nei confronti della storia intera proprio dei giornalisti infatti ho visto nei giorni scorsi proprio riguardo a questo episodio anche molti commenti di persone comuni non di sostenitori di spada che scrivevano giornalista terrorista ma anche di persone comuni che si esprimevano comunque in questo modo dicevano se l'è andata a cercare ma scusami c'è una manifestazione in solidarietà di un collega che è stato menato a Ossia e quando arrivano i giornalisti vengono insultati dai manifestanti che sono andati a esprimere la solidarietà un giornalista menato siamo alla follia c'è il cortocircuito che bisogna essere tutti menati per essere tollerati cioè tollerati per neanche accettati o seguiti tollerati è una cosa assurda assurda cioè insulti ai colleghi che stanno lì a raccontare la presenza della raggia o tutti in maniera anche abbastanza neutra la presenza della raggia al corteo la follia ormai questo è il sentimento comune tra un po' quando ci chiederanno incontri una persona e ti chiede che mestiere fai non lo so dovremmo dire che è un postino ormai siamo arrivati a questo punto perché altrimenti rischiamo tutti eccetera è una follia una follia c'è un clima in questo paese della Repubblica di Weimar prima o poi arriverà un Hitler prima o poi arriverà l'uomo forte se si continua sicuramente siamo agli anni trenta ormai non siamo tornati agli anni cinquanta siamo tornati agli anni trenta prima della nascita dei grandi totali rismi e quindi stiamo attenti benvenga voi che fate un lavoro di informazione di far emergere un po' di contraddizioni e benvenga anche il lavoro di giornalisti di inchiesta come te come Simona che abbiamo citato prima e come tanti altri per fortuna tanti altri sì allora ricordo proprio in chiusura di questa intervista i titoli dei tuoi libri in particolare dei due libri che si occupano proprio del sistema di potere criminale a Roma i titoli sono Grande raccordo criminale e Roma brucia in particolare il primo è stato scritto molto prima diversi mesi prima è stato pubblicato un anno prima sì dell'inchiesta mafia capitale dell'inchiesta mondiale vorrei ricordare che è a quattro mani il libro lo scriviamo io e la collega Floriana Bolson esatto entrambi sono editi da imprimatur editor poi c'è anche questo libro che hai citato prima l'ultimo su la strada di portella della ginestra c'è il bandito della cosa fredda che stiamo ancora è ancora ben presente in libreria in questo momento anche perché l'argomento di fatto ha suscitato per il tuo interesse quindi sta penso che ti chiameremo anche su questo libro per fare questa strage molto dimenticata ma invece importantissima la prima strage del Stato esatto la prima grazie a tutti grazie ciao ben tornati cari sognatori di border nights questa sera parleremo di fascisterie piccole e grandi di rigurgiti passatisti e mondi complementari quelli governativi del mondo di sopra e quelli del mondo di sotto titolo della scheda arcobaleni neri da un po' di tempo leggiamo sui giornali ed ascoltiamo in tv di piccole e grandi fascisterie spesso sbandierate per creare spauracchi che legittimano il sistema per alimentare ossessioni vecchie paure ed invocare cambiamenti di paradigma prima il ministro Fiano si rende ridicolo quando annuncia di voler censurare obelischi della patria come fossero piselli di statue troppo nude ed esplicite non gradite al savonarola di turno per passare a frasi populiste rubate a qualche fuorionda radiofonico e televisivo imprecazioni contro stranieri di insospettabili lord oppure il ricordo di Anna Frank trattata come fosse una vilina dimenticata nell'oblio generale le testate pubbliche di picchiatori ripresi da telecamera Rai e poi salutati come protettori del territorio braccia attesi di giocatori che mostrano provocatoriamente la maglietta della Repubblica di Salò a Marzabotto dopo il gol e via dicendo Ritengo che al padronato l'idea che in Italia ci siano i gurgiti di distorsi faccia comodo al mondo di sopra un certo fascismo serve è un loro desiderio recondito giornalisti cercano di strappare interviste nelle sedi dell'estrema destra per mostrare quanto siano retrogradi ed antimodernisti certi mondi alimentano pubblicità al fenomeno mediatico che in realtà vogliono incentivare per altri fini il bersaglio non è solo l'audience infatti si cavalca un certo sentimento popolare della maggioranza silenziosa e lo si confligge in maniera volutamente obsoleta con provocazioni sterili con gognie mediatiche e giudizi sommari chi pensa che la tv e di media lunga mano di certi poteri siano interessati ad arginare il fenomeno per salvaguardare i propri concittadini non ha ben chiaro lo scenario la finestra sul porcile è quello che il quinto potere vuole mostrare ad i suoi utenti anche questa è rieducazione al pensiero per la creazione di due scenari preconfezionati quello dell'estrema destra e quello governativo ciò serve ad alimentare il tempio dell'oracolo l'antifascismo è una cosa seria invece in questo modo si strumentalizza il fenomeno per altri scopi di controllo emozionale da notare il cortocircuito in atto l'estrema destra fa campagne contro i rom poi si caga in mano con gli zingari mafiosi che possono tornare utili a livello politico ed elettorale proprio perché sono coloro che gestiscono con la forza e la paura al territorio ci sono foto video incontri anche pubblici tra certe famiglie storiche romane e zingare mafiose e i dirigenti locali di certi ambienti politici gestiscono il territorio attraverso la suburbia mentre il mondo di sopra quello del PD PDL e domani dei 5 stelle gestisce gli appaltoni sono due mondi complementari e sono quasi 50 anni che alcuni ambienti gestiscono la suburbia finanziata dal mondo di sopra Magliana Docet lo stesso Pasolini fu ucciso proprio da questi ambienti prezzollati dai servizi anche all'estero non c'è da stare tranquilli il clima generale e la tendenza politica odierna purtroppo è questa rigurgiti fascisti un po' ovunque in nord Europa ed un certo nazionalismo una certa rabbia viene canalizzata strumentalmente da certi poteri per spostare i bersagli da un naturale e logico risveglio di coscienza di classe popolare ad altro si sposta la rabbia verso un nemico comune dividendo la popolazione ed evitando che si scoprano i veri obiettivi primari del conflitto in atto i contenitori di destra annunciati ed evocati negli ultimi anni stanno prendendo corpo e si stanno realmente materializzando l'egregora coltivata a lungo è stata nuovamente accesa allora vediamo in Polonia durante il giorno dell'indipendenza infiltrati di estrema destra incappucciati creare disordini in mezzo ai manifestanti ma anche la presenza di populisti di ogni declinazione riuniti sotto l'egida dell'uomo forte evocato sognato ad oggi atteso manifestare contro zingari straniere ed ebrei colpevoli di ogni male al mondo l'orologio sta tornando indietro le lancette girano al contrario assurdo negarlo il potere ringrazia dall'alto e salva ancora una volta buon fascismo a tutti un saluto da maestro di diatrologia randas gurú ardas vahir ram das gurú ram das gurú ram das gurú Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e 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 a tutti. Grazie a tutti. e 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 tutti. e a tutti. e tutti. No. e tutti. è strano. che un paese. e a tutti. e a tutti. non ho capito. e... e tutti. e tutti. e... e tutti. e... e tutti. su fili. e tutti. e tutti. e... 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 ... e... ... e... 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 ... e... 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 ... e... e... ... ... ... e... ... e... ... e... ... e... ... ... ... ... ... ... ... ... ... e... ... 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 E questa nostra sigla che mi piace molto devo dire, secondo me è una delle migliori sigle che abbiamo avuto in questi anni, io vi ricordo solo che il nostro sito è bordernights.it, che c'è da iscriversi al nostro canale YouTube che si chiama Border Knights, dove la domenica mattina, torno alle 9 e un quarto, siamo in diretta video con Gianfranco Carpeogo e il suo Carpeogo racconta per i temi della settimana e tutte le varie, siete tantissimi a voler chiedere appunto qualcosa a Gianfranco e volevo anche dirvi che la nostra email è redazionechiocciolabordernights.it per scriverci i vostri pensieri, potete anche mandarci degli audio, potete fare quello che volete, chiederci lumi su Almagis, insomma tutto potete fare, suggerire ospite, come fanno in tanti, ecco questo è insomma un po' il nostro modo per tenersi in contatto, io vi ringrazio molto, è stata una notte lunghissima, molto interessante, è vero, Addoardo Agnelli, questa figura mi ha ulteriormente colpito più di quello che non aveva fatto in passato, poi Stefania insomma molto interessante il tema di Roma, il potere, anche i giornalisti, insomma, bene, Oscar Cito, la conferenza, abbiamo detto e fatte di cose, ci sentiamo allora martedì prossimo, sarà un viaggio completamente diverso, Buonanotte!